Perfetto, iniziamo il Consiglio Comunale. Prendete posto. Intanto saluto tutti, il Sindaco, Assessori, Consiglieri, Pubblico presente, Forze dell'Ordine, chi ci segue da casa. Passo la parola al Segretario Comunale per l'appello. Di Stefano, Bonato, Cagliani. Calini, Coccetti, Cupido, Foggetta, Garotta, Gatti, Ghezzi, Amdi, Maderloni, Milazzo, Molteni, Montrasio, Nigro, Pagani, Pastorino, Pini, Pogliaghi, Ricupero, Romano, Turolla, Balsecchi, Bincelli, Aiosa, Fiorino, Lamiranda, Lanzoni, Nisco, Paterna, Izzocchera. 22 presenti. Procediamo con l'inno nazionale, grazie. Ci alziamo in piedi. B passa a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tre proposte di delibera all'ordine del giorno. Come discusso nella conferenza dei capigruppo avremo un'unica presentazione di tutte e tre le delibere, una presentazione congiunta da parte del signor Sindaco e procederemo poi ad un'unica discussione con i tempi prestabiliti di 5 minuti per consigliere e 10 minuti per gruppo. Dopodiché procederemo alle dichiarazioni di voto delle singole proposte di delibera e della votazione delle singole proposte all'ordine del giorno con discussione e votazione dei ordini del giorno che sono pervenuti. Le tre delibere all'ordine del giorno sono conferenza aliquote numero 1 detrazione di imposta IMU per l'anno 2004. la proposta al secondo punto ordine del giorno addizionale comunale all'IRPEF imposta sul reddito delle persone fisiche conferma aliquota e soglia di esenzione anno 2024. proposta di delibera numero 3 approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 articolo 151 del decreto legislativo numero 267 del 2000 e articolo 10 del decreto legislativo numero 118 del 2011 ed aggiornamento documento unico di programmazione periodo 2024-2026 ed aggiornamento documento unico di programmazione DUP periodo 2024-2026 ai sensi degli articoli 170,1 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Passo la parola al signor Sindaco per la presentazione di tutte e tale proposte di delibera. Grazie. Sì, buon appetito. Ok, buonasera a tutti quanti, grazie Presidente, ho preparato delle slide per semplificare quanto già presentato durante le quasi due ore di commissione, quindi magari vado un pochino più veloce così lascio più tempo poi alla discussione. Allora, vediamo. Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento per gli organi di governo dell'ente nell'ambito dell'esercizio della funzione come atto di indirizzo e programmazione, e definisce quelle che sono le risorse da destinare alle emissioni e ai programmi, così come stabilito in coerenza col DUP, col documento unico di programmazione. Il bilancio di previsione viene redatto in base ai principi contabili e ai principi di programmazione e contabilità finanziaria, è composto da previsioni delle entrate e delle spese sia di cassa per quanto riguarda la competenza che sugli anni successivi il bilancio di previsione. Il bilancio di previsione contiene il piano generale riassuntivo, la verifica degli equilibri di bilancio, il prospetto del risultato di amministrazione, il presunto risultato di amministrazione, il prospetto della composizione delle permissioni e programmi del fondo pluriennale vincolato, del fondo crediti di dubbio esigibilità, il prospetto rispetto ai vincoli di indebitamento, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi, di trasferimenti da parte della comunità sia internazionale che del Ministero o della Regione e la relazione del collegio dei revisori. Per quanto riguarda quelli che sono i punti di criticità, i punti di forza all'interno del bilancio di previsione 2024, abbiamo sicuramente un contesto economico instabile che ha generato degli adeguamenti Istat, quindi delle richieste di adeguamento da parte dei fornitori di servizi, ma anche un incremento di quelli che sono i costi dei materiali per quanto riguarda la parte investimenti. Abbiamo affrontato la criticità di un incremento di spesa anche per quanto riguarda la gestione dei minori, che siano minori non accompagnati o minori del territorio, la criticità dell'aumento dei costi delle utenze, anche se nell'ultimo anno almeno si sono ridotte rispetto al boom che c'è stato l'anno precedente sulle utenze tendenzialmente. I punti di forza, sicuramente nonostante la situazione non idilliaca come fattore esogeno della congiuntura internazionale, della guerra, delle guerre che ha generato gli aumenti dei costi, sicuramente le difficoltà anche di far fronte a risposte sempre crescenti del territorio, anche post-Covid, e la necessità di andare incontro a quelli che sono i disagi dei nostri cittadini. Siamo riusciti a portare il bilancio per la prima volta nella storia del Comune di Sesto San Giovanni a dicembre per l'anno successivo, senza dover aspettare l'aprile dell'anno in corso, utilizzando l'assestamento come molti Comuni fanno e come ha sempre fatto il Comune di Sesto per garantirsi l'equilibrio di bilancio. Questo è frutto sicuramente di un percorso che ha rimesso i conti in ordine, che è partito nel 2017 fino ad oggi, via via superando quello che era il disavanzo da 28 milioni di euro, lo status di Comune in predissesto, fino a diventare un Comune virtuoso con un avanzo di amministrazione. Questo ci ha consentito per l'anno 2024 di mantenere invariate quelle che sono le tariffe, sia sull'addizionale comunale, sull'IMU, sul canone unico patrimoniale, la tassa sui rifiuti viene applicato, il piano tariffario approvato nel 22 e modificato nel 23, sarà approvato entro il 30 di aprile del 24 e parallelamente ci ha consentito di andare incontro a quelle che sono le categorie fragili, le categorie più in difficoltà dal punto di vista economico, andando a intervenire su quelle che sono le tariffe per i servizi a domanda individuale con una salvaguardia dei servizi e applicando l'adeguamento Istat, ma con una riduzione di 6 punti percentuali. considerate che si tratta di servizi a domanda individuale, sono non obbligatori per legge, hanno un costo per l'amministrazione, cubano oltre 10 milioni di euro, la percentuale di copertura è di 5 milioni ed è proprio una risposta che dà anche una scelta politica da parte dell'amministrazione di poter intervenire su quelli che sono gli asili nido, la riflessione scolastica, l'uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali, il servizio piccoli e grandi, il centro di urno dei disabili, l'assistenza domiciliare, il servizio trasporto disabili, il servizio pasti caldi, gli impianti sportivi, i centri ricreativi estivi, i servizi pre e post scuola e i trasporti scolastici. Quindi laddove ci sono servizi a domanda individuale per delle categorie di fragilità rispetto alla percentuale di copertura dello scorso anno del 56%, riusciamo a garantire una percentuale del 50%, quindi riduciamo ulteriormente l'esposizione per i cittadini, nonostante ci sia stato anche su questo un adeguamento Istat, quindi un ulteriore contributo dell'amministrazione a tutela delle fragilità. La misura straordinaria sugli equilibri di bilancio e relativa all'utilizzo degli oneri a copertura della differenza di 3 milioni e mezzo di equilibrio fra la parte corrente e la parte investimenti, altri punti di forza, sicuramente l'incremento di risorse per quelle che sono le manutenzioni ordinarie e straordinarie, poi le vedremo più nel dettaglio durante la presentazione del piano triennale delle opere pubbliche e l'incremento di quelli che sono i servizi sia sociali che educativi. Quello che il quadro generale riassuntivo che comprende sia la parte corrente che la parte investimenti e relativa a un bilancio di 174 milioni di Euro con due voci che sono il titolo settimo, il nono, l'anticipazione di cassa e le entrate conto terzi che sono due partite di giro, il titolo primo, le entrate tributarie cubano 56 milioni di Euro, i trasferimenti correnti si assestano a 8 milioni di Euro, le extra tributarie a 23 milioni di Euro. L'equilibrio in parte corrente, come dicevo prima, si raggiunge con l'utilizzo di 3 milioni e 5 di oneri di urbanizzazione, l'equilibrio in parte capitale è raggiunto con il fondo pluriennale vincolato di 5 milioni e 3 e le entrate in conto capitale di 28 milioni. In commissione sono entrato nel dettaglio di ogni singola voce in parte corrente, in parte investimenti del titolo primo, secondo e terzo. Qua eviterei di addentrarmi ulteriormente lasciando poi magari più tempo alla discussione. Quindi, quelle che sono le tariffe dei servizi pubblici a domanda, viene confermata la gratuità del servizio rivolto agli alunni che provengono dai quartieri dove sui mezzi pubblici c'è meno percorrenza, nonostante con la nuova richiesta all'Agenzia di Bacino dovrebbero essere maggiormente coperte in prospettiva futura anche questo quartiere, che è il quartiere della Pelucca. L'assessore mi fa sì, cenno col capo, quindi vuol dire che ci stiamo riuscendo. I servizi a domanda individuale è una ripetizione che anticipa poi questa slide che fa vedere l'evoluzione nell'ultimo triennio per far vedere come con il risanamento dei conti e degli equilibri di bilancio siamo riusciti poi a riportare a favore della cittadinanza e dei cittadini quelli che sono gli investimenti più importanti in parte corrente, offrendo sempre più, a una platea sempre maggiore di cittadini, i servizi e aumentandone la qualità, riducendone comunque il contributo da parte dei cittadini. Considerate che la percentuale minima di legge per i servizi a domanda è del 36%, sono servizi non obbligatori ma sono un bel intervento dal punto di vista di sostegno in questo contesto che stiamo affrontando. Altro dato importante è tutta l'attività che gli uffici, anche con gli organi competenti, portano avanti per quanto riguarda il recupero dell'evasione tributaria. Altro dato che abbiamo analizzato in commissione, la capacità assunzionale dell'ente che in base alla normativa il rapporto tra la spesa personale e le entrate correnti si assesta a quasi 3 punti percentuali, 2,9% rispetto al valore soglia stabilito per legge. Per spiegare meglio la slide precedente, l'impatto, questa è la fotografia attuale dell'ente con 479 dipendenti. Il 2024 prevede la cessazione per pensionamento di 10 dipendenti che saranno sicuramente inseriti nel piano del fabbisogno del personale che deve essere approvato dalla giunta entro il 30 gennaio del 2024. Gli stanziamenti per le assunzioni e per le sostituzioni per i pensionamenti sono all'interno del bilancio previsionale. Altro elemento importante è affrontare quello che è il fondo crediti di dubbia esigibilità che viene calcolato sulla base degli accertamenti degli ultimi anni per ogni singola voce delle entrate tributarie e extratributarie, la somma stanziate di 4,8 milioni di cui 2,1 per le tributarie e 2,7 per le extratributarie. Questa è un po' l'analisi della spesa, di come l'indebitamento pro capite si riduce anno dopo anno aumentando quella che è la liquidità in parte corrente e l'equilibrio del bilancio sia in parte incidenza sul costo del personale sulle spese correnti se considerate che precedentemente la rigidità della spesa corrente rispetto al 2017 che era del 35%, oggi è scesa al 24%, quindi anche abbiamo una struttura più snella, più efficiente, meno costosa e che consente di investire sul miglioramento di quelli che sono i servizi per i nostri cittadini. La parte investimenti invece è abbastanza corposa, abbiamo sul 2024 svariate forme di interventi che toccano investimenti sia compartecipati dal Comune, la parte del Leone sicuramente lo fanno il piano nazionale di ripresa e resilienza così come anche tutti gli investimenti privati che stanno partendo con i due cantieri sia quello della città della ricerca e della salute che sul cantiere dell'Unione Zero ma poi anche su tutto il territorio con le riqualificazioni e rigenerazioni urbane che stiamo portando avanti. Partiamo da quella che è la piscina Olimpia, uno sanziamento attuale di 3 milioni a bilancio per intervento di riqualificazione generale a un costo di 1 milione e 2 con un accordo di programma richiesto a Regione Lombardia di 1 milione e 200 mila Euro che dovrebbe quantomeno partire dal cronoprogramma a metà 2024. La Villa Visconti d'Aragona invece, sede della nostra biblioteca centrale, prevede un investimento da PNRR di 4 milioni e 7,65 milioni di cui 230 mila Euro stanziati dal Comune, già il cantiere è avviato. L'ATS, questo è un intervento PNRR, fondi regionali per quanto riguarda l'ATS, anche qui in via Oslavia, sarà trasformata in casa di comunità e all'interno ci saranno prestazioni specialistiche ambulatoriali, assistenza primaria, diagnosi di base e assistenza anche alla fragilità e integrazione con quella che è l'attività dei servizi sociali. L'altro intervento di 600 mila Euro sarà la riqualificazione dell'area dell'anagrafe, creando uno sportello polifunzionale moderno all'interno del punto di riferimento per i cittadini e degli operatori dello Stato civile dell'anagrafe. L'ex asilo Montessori, un intervento da oltre 4 milioni di Euro, di cui 885 mila su bilancio del Comune, prevede la riconversione in centro polifunzionale, un adeguamento statico, sismico, il rifacimento degli impianti elettrici e meccanici, l'efficientamento energetico, l'abbattimento delle barriere architettoniche, lo stato attuale della gara e di assegnazione all'impresa. Poi abbiamo il nido Savona che viene completamente demolito e ricostruito, l'importo dei lavori è di 3 milioni e 100 con 812 mila Euro di risorse del Comune e già anche questo assegnato. La scuola primaria Oriani sarà coperta quasi 6 milioni da fondi di monetizzazione e nuovo mutuo. I primi di maggio, a inizio maggio 24 è previsto da cronoprogramma, la giudicazione, la cantierizzazione, attualmente siamo in fase di redazione del bando. La scuola Marzabotto, il cantiere è già partito, l'investimento più importante è quasi 8 milioni di Euro con 1.364.000 Euro quota comunale. Poi abbiamo la scuola Forlanini, in uno stato del bando è stato già assegnato l'importo di 2 milioni e 6 di cui 190 mila Euro a carico del Comune. Andiamo avanti velocemente non soltanto scuole o servizi ma anche quartieri ad edilizia residenziale pubblica come i quasi 6 milioni di Euro investiti per il quartiere Primavera, per via Leopardi 161 e via Magenta 88, anche qui il cantiere già avviato. Le manutenzioni straordinarie, in questo bilancio noi andiamo a inserire tutte quelle serie di richieste che necessità del territorio, partiamo dal milione 2 di accordo quadro per quanto riguarda gli edifici SAP e gli edifici pubblici, un milione e mezzo anche questo con accordo quadro per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinarie all'interno delle scuole e per gli ascensori e gli impianti elettromeccanici, un accordo quadro sempre di 1 milione e 8, no non era 1 e 8, ah no 1 e 8 sì. Altri interventi nel piano triennale sono i lavori per ripristino di alcune gallerie al cimitero monumentale per quasi un milione di Euro, 900 mila Euro e 700 per il cimitero nuovo, mentre 200 mila Euro sono gli interventi per la costruzione dell'area delle dispersioni ceneri. Ci sono anche risorse provenienti dal piano della Lombardia, per intenderci il piano con risorse vincolate per rifacimento, nel nostro caso, di piazze dove noi abbiamo ricevuto sia risorse per il rifacimento del primo lotto di piazza Petazzi, il secondo lotto prevede la parte più verso largo la marmora, tra il rifacimento di piazza Trento e Trieste e il rifacimento di piazza 4 novembre, tutte risorse stanziate da Regione Lombardia e che nel 2024 saranno o definiti progetti esecutivi e aggiudicate i bandi o avviate le cantierizzazioni. Anche sulla parte mobilità, mobilità dolce, uno sviluppo anche dal punto di vista più ciclabile, quindi ci sono tre progetti importanti, il più importante in termini economico è sicuramente quello degli onori di urbanizzazione del Consorzio dell'acqua potabile per quanto riguarda la realizzazione e il collegamento col Parco della Martesana, che è quello da un milione e nove, c'è la parte di intervento sovracomunale di città metropolitana per quanto riguarda l'asse clerici testi fino a Parco Nord e la parte invece sempre PNRR che realizza tutto il tratto della Bicipolitana di un milione e due e venti. per quanto riguarda poi la riqualificazione anche del Cavalcavia Buonarrotti, due milioni e mezzo di investimenti, poi ci sono tutte le opere funzionali alla città della ricerca e della salute che con i primi mesi del 2024 andranno a bando, in particolar modo il primo lotto prevederà tutta la parte collegata all'operatività della città della ricerca e della salute in quanto è già partita la cantierizzazione dell'investimento della regione, quindi anche qui avremo la nuova piazza con la nuova bicistazione, la piazza verso la città della ricerca e della salute, il sottopasso pedonale di collegamento metropolitano per l'uscita anche sulla nuova piazza verso gli ospedali, si svilupperà tutta la parte della viabilità dell'Unione, ci sarà il parcheggio integrato, il parco urbano una parte sarà messo a gara e per concludere la parte più costosa che è quella poi del ring e della viabilità che sicuramente stanzia parecchie risorse ma sono quelle poi rientranti in quello che è stato l'accordo di programma a suo tempo. Il bilancio in sintesi sicuramente non è una situazione facilissima per gli enti pubblici considerati molte situazioni di criticità con gli aumenti dei costi dei materiali, con gli aumenti della richiesta di adeguamento Istat da parte di tutti coloro che gestiscono servizi per quanto riguarda un ente pubblico o gestiscono cantieri per quanto riguarda l'acquisto di materiale da parte degli aggiudicatari. In una situazione del genere credo che il comune di Sesto San Giovanni riuscire ad approvare un bilancio mantenendo invariate le tariffe, quindi i tributi, non le tariffe, i tributi, quindi garantendo un mantenimento di quella che è il titolo primo e il titolo terzo, le tributarie e le extratributarie sulle politiche tarifarie che portano pure una riduzione ulteriore di 6 punti percentuali con 5 milioni messi a disposizione all'amministrazione a garanzia delle categorie fragili è sicuramente un motivo di vanto e di orgoglio da parte di questa maggioranza. Per non parlare poi di tutto ciò che è il combo di che è un'attività di un'ottima grazie a portare il comune di un'ottima inizia di un'ottima Il comune si prepara a portare sul territorio risorse per riqualificare e rigenerare aree abbandonate da tantissimi anni o anche singole strutture, da un certo punto di vista anche negli ultimi i consigli comunali, abbiamo deliberato delle deroghe per quanto riguarda la realizzazione di studentati, ce ne saranno anche da gennaio-febbraio, immagino l'assessore Lamiranda è già pronto per portare anche altre delibere che porteranno a una riqualificazione di zone o edifici abbandonati con tutto ciò che ne consegue l'aver creato un piano di governo del territorio molto flessibile, molto snello con dei ritorni sicuramente importanti dal punto di vista della socialità ma anche dal punto di vista degli investimenti perché se calcolate che soltanto nel 2024 o nel triennio 24-26 sono in programma, 55 milioni di Euro di interventi tra risorse comunali che se non avessimo sistemato il bilancio oggi questi 21,5 milioni di Euro non saremmo riusciti mai a investirli o le quasi 26 milioni di PNRR che siamo riusciti a intercettare grazie anche a un ufficio tecnico molto operativo nella progettazione e veloce nella richiesta e nel deposito dei documenti così come oltre 5 milioni di regioni Lombardia e anche un'attenzione al sistema socio-sanitario con la casa di comunità. Oltre la parte pubblica poi c'è l'effetto di aver sbloccato la cantierizzazione per quanto riguarda l'Unione Zero, la richiesta adesso del nuovo operatore che è subentrato a Milano VI per quanto riguarda la proprietà che è stata ceduta a due nuove realtà che sono Redo e Coima che sostituiscono Prelios e Ainz, le quali però rimangono proprietarie dell'area già cantierizzata dell'Unione Zero lasciando la percentuale di edilizia convenzionata, la società di Milano VI che tramite Redo realizzerà la parte di edilizia convenzionata, con loro adesso ci incontreremo per valutare anche l'avvio dell'Unione Uno ma anche le opere a scomputo oneri che devono essere messe a gara pro quota per il nostro territorio e per la nostra città e che poi sono quelle opere a scomputo che voi vedete lì sotto che cubano quasi 75 milioni di Euro. Quindi io ringraziando quelli che sono gli uffici che hanno consentito oggi di portare un bilancio sano, un bilancio nei tempi, un bilancio che punta molto alla riqualificazione, alla rigenerazione investendo, intercettando risorse sia pubbliche che private ma anche quando parliamo di private anche leader di società che gestiscono riqualificazioni a livello nazionale o internazionale vuol dire che Sesto è ritornata a essere una città attrattiva. Grazie a un lavoro certosino che abbiamo fatto in questi anni e che stiamo mantenendo con una certa programmazione e lungimiranza e lo dimostrano anche i numeri. Quindi io lascerei al Consiglio la discussione e mi riservo poi di fare una valutazione su quello che viene dichiarato in fase di discussione. Grazie Sindaco. A questo punto apriamo la discussione che ricordo è unica su tutte e tre le proposte di delibera. Ricordo i 5 minuti per ogni consigliere, i 10 minuti per ogni gruppo. I gruppi consigliari con un solo consigliere imposto già il timer a 15 minuti così non vi interrompo per gli altri. Poi terrò io segnato l'extra time eventualmente utilizzato. Passo la parola al Consigliere Turolla. Prego, hai la parola. Grazie Presidente. Ne approfitto per salutare tutti i presenti, colleghi e collegati. Non userò i 15 minuti, faccio un intervento breve solo per sottolineare alcuni aspetti della presentazione nonostante l'esaustiva e chiara presentazione del Sindaco. Intanto volevo appunto sottolineare il fatto come gruppo di Fratelli Italia, come partito, che il fatto di approvare appunto un bilancio previsionale a dicembre, che se da un lato appunto certifica il buono stato dei conti, dall'altro permette appunto di entrare in un 2024 con una macchina amministrativa pienamente funzionante. Dall'altro poi abbiamo degli oneri di urbanizzazione che hanno aiutato sì a coprire il rapporto tra attività e passività, abbiamo visto nella presentazione sono circa 3 milioni e mezzo e dall'altro hanno aiutato anche però a coprire in parte 1 milione e 2 l'appalto del verde. Sottolineo anche appunto l'importanza di avere un indice dei servizi a domanda individuale al 50% sta lasciando la percentuale di partenza e il fatto che per la prima volta, proprio per il bilancio in ordine e per i conti a posto, siamo riusciti come Comune ad attivare un mutuo per la messa in sicurezza a norma e la ristrutturazione di una scuola. Un intervento importante per cui ringraziamo tutti gli assessori e gli uffici che si sono impegnati in questi anni. Grazie. Grazie a lei. Sola Pagani ha la parola. Grazie Presidente. Allora, ci sono delle cose che come gruppo abbiamo interpretato in maniera anche diversa, poi ci sono dei dati che sembrerebbero oggettivi ma poi dei dati di fatto vengono reinterpretati in un modo abbastanza singolare da un certo punto di vista. Vado per pezzi, spero di riuscire a dire tutto quello che vorrei dire. Intanto il bilancio di previsione è importante perché è quello che declina in numeri ciò che il documento unico di programmazione racconta a parole. e quindi da dove l'ente comunale prende le risorse e come decide di impiegarle. Anche su questo a volte non c'è coerenza nella parte discorsiva del DUP e nella parte poi degli stanziamenti a bilancio. Noi discutiamo adesso il bilancio di previsione 2024, in realtà forse sei mesi fa più o meno abbiamo discusso invece il bilancio di previsione 2023, non c'è tantissimo tempo nella discussione di quello precedente rispetto a quello attuale e tutto sommato dal nostro punto di vista non ci sono grandissime differenze. L'altra volta facciamo una discussione come città in comune cercando di portare uno sguardo trasversale sulla città di Sesto dal punto di vista della qualità della vita e dal punto di vista della qualità dei servizi cioè perché uno dovrebbe o vorrebbe venire a vivere a Sesto o perché uno sta bene mentre vive a Sesto San Giovanni. Abbiamo provato a farlo declinandolo su diversi temi e oggi ci riproviamo partendo dal presupposto che alcune cose che dirò sono sostanzialmente simili se non identiche ma inevitabilmente a quello che abbiamo discusso appunto sei mesi fa su altre cose e quello che proviamo a fare anche di aggiungere argomenti che potrebbero essere utili all'interno della discussione. Allora dal lato delle entrate vengono confermate le aliquote massime già stabilite negli anni passati non è un dettaglio quando si parla di aliquote massime però data l'attuale fase di difficoltà economica forse sarebbe stato possibile anche fare qualche sforzo in più per alleggerire la pressione fiscale locale. Prima si parlava di difficoltà e di criticità all'interno del bilancio le criticità e le difficoltà ci sono ovviamente anche all'interno delle famiglie e delle singole persone perché questo è un momento, non direi un momento, ma un periodo dal Covid in poi che non è andato propriamente migliorando dal punto di vista del lavoro e dal punto di vista dell'economia e anche dei guadagni oltre che della stabilità del lavoro che è un elemento importante. Quindi nel bilancio previsionale l'amministrazione di Stefano conferma la decisione di applicare l'addizionale IRPEF con aliquota massima dello 0,8% unica per tutti gli scaglioni di reddito con soglia di esenzione fissata sempre a 12.000 euro. Applicare la medesima aliquota a tutti i cittadini significa però penalizzare, questo è evidente, i redditi più bassi. E considerando appunto che la situazione difficile in cui vivono moltissime famiglie che devono affrontare, avevamo già sottolineato, forse anche denunciato la parola più corretta, nel 2023 che poteva essere l'anno in cui tentare una redistribuzione del carico fiscale agendo sia sulla liquota e o sulla rimodulazione della soglia di esenzione. Su questo abbiamo anche preparato un ordine del giorno. Evidentemente questo non è stato fatto sei mesi fa nella presentazione del precedente bilancio e nemmeno questa volta. Per quanto riguarda la Tali, che è sempre stata e resta a livelli importanti, sappiamo tutti benissimo che non corrisponde un addivato liguello di polizia e di cura della città. Questo dice Mari Pagani, nemmeno città in comune, credo che lo dica qualunque cittadino che cammina per la città, almeno insomma quelli che incontro io, ma non credo di incontrare persone molto diverse dalle esigenze di tutti gli altri. Poi abbiamo calcolato che con l'addizionale Iripefimo Tari il comune incassa circa 40 milioni di euro, quindi l'elevata pressione fiscale locale che grava sui cittadini c'è. È molto difficile dire che a questa pressione fiscale, che da un certo punto di vista è anche importante in una riduzione di contesti di trasferimenti centrali, perché chiaramente la tassazione locale è un elemento fondamentale per reperire delle risorse, però a questo spesso non corrispondono servizi che soddisfano in pieno i bisogni dei cittadini. Questo è un dato di fatto che va dato anche dal punto di vista delle spese. Allora c'è un doppio binario. Per quanto riguarda le spese correnti, è vero che vengono mantenuti tutti i servizi esistenti. Il dato non è scontato, però vista l'elevata pressione francamente pare anche il minimo. Non è sufficiente in molti casi, perché non è che mantenendo i servizi si rispondono a tutti i bisogni della città. Poi a volte non si può rispondere a tutti i bisogni della città, però nemmeno raccontare che si risponde a tutti i bisogni della città, perché questa è una narrazione un po' falsata, un esempio per tutti. E lo sappiamo sul supporto alla disabilità, i soldi che sono stati istanziati quest'anno sono gli stessi soldi che sono stati istanziati l'anno scorso. Quindi di conseguenza soddisferemo gli stessi bisogni, che sono poco meno del 50%, e ci saranno nuove famiglie che ci faranno nuovamente causa e vinceranno la causa, perché questo sì che è obbligatorio. E allora chi ha il servizio, chi vince la causa, mentre chi non ha fatto ancora causa non ce l'ha. Cioè ci si scambia. Poi sulla riduzione delle percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale, per cui passiamo dal 56% al 50%, guardate, io ho guardato la tabella, è identica a quella dell'anno scorso. Non è che le famiglie pagano di meno. C'è un'entrata che è sensibilmente inferiore, che è quella relativa agli asili nidi. C'è una differenza di 500.000 euro in entrata da parte delle famiglie. Ma non è che perché pagano di meno l'asilo nido, ma semplicemente perché ci sono meno asili nido comunali. Quindi la percentuale si riduce perché si riducono le entrate. Ma non è che noi di fatto miglioriamo i costi, non sto parlando della qualità, i costi dei servizi a domanda individuale. Perché sono esattamente identici a quelli dell'anno scorso. E questo è un fatto. Poi le narrazioni sono un'altra cosa. Però, insomma, i dati sono anche dati. Per quanto riguarda le politiche abitative, nel bilancio di previsione, anche qua considerando i tempi drammatici con affitti elevati e rate dei mutui in aumento, con la precarietà lavorativa che di fatto nega a molti l'accesso alla casa, la tutela del patrimonio abitativo pubblico è fondamentale. Benvengano quindi tutti i progetti di riqualificazione citati anche dal sindaco delle case comunali di Via Leopardi, di Via Magenta, grazie ai fondi PNRR per la maggioranza dell'importo e anche le manutenzioni previste per gli alloggi di proprietà comunale. Per una risposta duratura all'emergenza abitativa, questa è una domanda che questa amministrazione non si fa perché sembra che l'emergenza abitativa non sia duratura ma sia occasionale e di fatto invece poi numerosi sfratti hanno dimostrato e dimostrano che c'è un problema duraturo e un problema significativo. Forse bisognerebbe anche porsi l'obiettivo di riqualificare e incrementare il patrimonio pubblico, ripensare le quote di edilizia convenzionata presente sulle aree falca a favore di quella del canone sociale. C'è un problema di emergenza abitativa nel momento in cui noi abbiamo centinaia di sfratti e alloggi assolutamente vuoti, allora forse anche qua serve un'accelerazione, il coraggio di assumersi delle responsabilità anche nei confronti dell'Aler, si potrebbe assegnare gli alloggi nello Stato di fatto, quindi consentendo gli inquilini di effettuare i lavori necessari e forse magari provare ad incrementare anche il personale dell'Agenzia Casa. Io ho guardato le assunzioni per quello che ho potuto capire all'interno delle tabelle del bilancio previsionale, ho fatto anche una domanda in Commissione, noi abbiamo quattro assunzioni che fanno riferimento ad uno stesso ufficio che è quello dello staff del Sindaco e i venti sportivi perché adesso è stato unificato, di cui tre a trempopieno. Però, allora, per carità, magari è assolutamente necessario, però io credo che ci siano dei servizi che hanno mostrato sofferenza, non per incompetenza, non per capacità, ma per mole di lavoro e per emergenze che ci sono in questa città e che forse andrebbero, come dire, sostenuti anche di più nel momento in cui abbiamo anche ipotizzato che ci sarà un nuovo servizio che prenderà forma all'interno di Via Giardini 32 con questo servizio a sostegno dello sportello casa, eccetera. Non è che possiamo chiedere alle persone di fare tutto e più e sempre quello, perché si fa, ma fino a un certo punto, credo, quando le risorse sono quelle che sono. Cioè, la cifra, come dire, di diminuzione dei dipendenti comunali all'interno della macchina comunale è significativa negli ultimi anni. Da questo punto di vista si può essere più o meno contenti. Io trovo veramente, come dire, sorprendente che le stesse persone diminuite di 200 unità svolgano la stessa mole di lavoro di 200 unità dopo. Lo trovo veramente sorprendente da questo punto di vista, mi viene da dire tanto di cappello. Poi però in questo cappello ci sono stati un sacco di servizi anche, perché diciamoci anche questo, perché le code per fare la carta di identità buttate in mezzo alla strada un'ora non è che sono propriamente, come dire, l'esemplificazione dei servizi ottimali. Altra questione riguarda invece quelle che sono le politiche ambientali. Allora, è chiaro che in una relazione di bilancio previsionale si potrebbe parlare di tantissime cose. Cerco di dare un contributo sulle riflessioni che abbiamo fatto relative a degli argomenti che riteniamo importanti e, come dire, non sovrapponendo lì all'intervento che, vi ripeto, l'ultimo è stato fatto più o meno sei mesi fa, sulle questioni ambientali. Prima si parlava delle piste ciclabie. Allora, intanto, le impressioni che abbiamo noi è che le politiche ambientali in questa città si riducono alla questione dei rifiuti e del decoro urbano e poco altro, se non tutto qui. E il verde urbano è vissuto sempre come arredo e non come qualità e benessere, oltre che diritto, dal mio punto di vista, dei cittadini. Viviamo in una città che è fortemente inquinata, questo determinato non solo dal contesto di dove siamo evidentemente, ma anche naturalmente dalla storia di questa città che tutto è stata, forché non una città come dire che per ovvi motivi, per come era strutturata, per quello che produceva, per la mole dell'insediamento, insomma delle fabbriche, è stata una città sempre come dire sottoposta ad un forte inquinamento. C'è un problema della qualità dell'aria che non riguarda naturalmente soltanto Sesso San Giovanni e non è che ci possiamo però contemporaneamente chiudere nel nostro metro quadrato fare finta di niente e crediamo che una politica di mobilità dolce non abbia, o meglio, sostenere a bilancio con delle risorse una politica di mobilità dolce. Perché poi la questione è mettere le risorse sulle cose, non sia determinata soltanto e benvengano, dalla costruzione delle piste ciclabili, perché non esauriscono gli ambiti di azione a favore della mobilità dolce. Crediamo che non si possa prescindere da un piano che preveda ad esempio incentivi all'uso della bicicletta, l'introduzione di aree limite di velocità a 30 km, stalli sicuri, bike sharing, giornate senza auto, anche campagne di sensibilizzazione sugli effetti dell'inquinamento atmosferico. Se non inseriamo a bilancio risorse dedicate ad un piano della mobilità dolce, a prescindere dalle piste ciclabili, noi non stiamo investendo su un cambiamento che è fondamentale. E sempre in merito alle tematiche delle politiche ambientali, mi spiace che, ma capisco nel senso che il sindaco durante la commissione ha fatto una relazione anche più lunga, quindi si è preso più tempo naturalmente per dire delle cose, però una delle cose che secondo me più interessanti che lui ha detto è un'attenzione che dovremmo, vorremmo avere come amministrazione comunale nei confronti della costruzione delle comunità energetiche. E noi crediamo che questo sia veramente molto importante, perché le comunità energetiche che rappresentano una vera e propria rivoluzione culturale, nei modi in cui viene prodotta e consumata l'energia. Le comunità di energia rinnovabile sono un esempio di una nuova modalità di realizzazione di impianti che sono distribuiti su tutto il territorio, questo coinvolge naturalmente non solo i cittadini, le amministrazioni locali, gli enti e le imprese, un ruolo fondamentale è quello delle istituzioni che diventano protagonisti nella trasformazione che, come dicevo prima, non è soltanto una trasformazione energetica, ma è anche una trasformazione culturale. Da questo punto di vista, allora, sono stati stanziati un sacco di soldi in regione, almeno così dice la regione, nel senso che io mi sono informata lì, si parla addirittura di un investimento regionale iniziale, perché è stato preso un impegno attraverso la costituzione di una società che sostanzialmente ha come obiettivo costruire un nucleo operativo per la promozione e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili, di 22 milioni di euro per avviare la realizzazione di una rete diffusa di impianti di produzione, che riguarda anche edifici pubblici importanti, ospedali, scuole, ovviamente gli enti locali, ma che potrebbe riguardare anche in una concertazione pubblico-privato anche le imprese, perché è diventato molto interessante anche per le imprese. Allora, da questo punto di vista, se ci sono degli stanziamenti, se c'è un'indicazione anche di volontà da parte della regione, perché la regione dichiara che il target nei prossimi 5 anni è di costruire 6 mila comunità energetiche che generano un incremento di potenza corrispondente a un terzo dell'obiettivo di sviluppo del fotovoltaico entro il 2030. Quindi tanta roba. Allora, sarebbe interessante da questo punto di vista che noi fossimo un comune virtuoso nella richiesta e anche nella possibilità di capire, oltre al monitoraggio che è stato fatto da regione, se ci sono delle possibilità per raccogliere. Questa è una cosa che interessa molto i cittadini. Ci sono dei condomini che si stanno strezzando in maniera autonoma per provare a costruire piccole cose, chiaramente senza le istituzioni. Però è un elemento importante. Vedo quanto ho. Cinque minuti ho, Presidente. Poco meno, giusto? Il termine è scaduto. Ma non è dieci più cinque? Infatti ho messo quindici minuti. Ah, porca miseria. Se in due minuti riesci a chiudere. Scusate. Prego. No, allora dico soltanto questa cosa velocemente. Mi ha fatto molto piacere, grazie Presidente, mi ha fatto molto piacere che sia stata citata la Casa di Comunità, perché in realtà la Casa di Comunità durante la Commissione non è un tema che è stato affrontato. Allora, da questo punto di vista è evidente che noi siamo terribilmente in ritardo rispetto a molti comuni limitrofi e soprattutto credo che l'azione dell'amministrazione comunale sia stata profondamente timida, perché siamo in ritardo, perché ci siamo limitati, che non è poco, ma insomma ad un comodato d'uso. Abbiamo delegato totalmente l'ATS e Regione e in realtà siamo deficitari di una serie di servizi che altre città evidentemente hanno. Rispetto a questo io credo che l'amministrazione comunale dovrebbe mostrare un deciso e maggiore impegno nella realizzazione di questi, anche nel monitoraggio di questi lavori di cui non si capisce nemmeno la fine. Grazie. Grazie a lei. Ci sono interventi in aula? Altri? Consigliere Madderloni, in questo caso imposto i 5 minuti, poi se va oltre conteggeremo. Prego, ha la parola. Grazie e buonasera a tutti. Parto da un punto che ci ha colpito sia in commissione che qui questa sera e cioè il primo punto è questo, che per la prima volta il Comune di Sesto presenta un bilancio preventivo a dicembre dell'anno, diciamo, dell'anno antecedente al periodo di riferimento del documento. Però così è scritto nella nota integrativa, quindi non è un pensiero del Partito Democratico, questa possibilità è prevista grazie a un principio contabile della programmazione che è entrato in vigore la scorsa estate. Quindi non ci vedo un merito ma un'opportunità, ecco, quindi. E questa sarebbe, è già una prima riflessione, insomma, che dice come presentare un bilancio fotocopia, se c'è la possibilità può essere sicuramente utile. Però c'è un'altra cosa che credo sia importante segnalare. Nelle numerose cifre che ha citato il Sindaco nella presentazione, il PNRR fa da padrone in questo bilancio e merito di quei fondi va a chi ha creduto che quello strumento fosse uno strumento idoneo a rilanciare il nostro paese, le nostre città in una fase di ripensamento del vivere urbano. E mi ha colpito come, ma positivamente, l'amministrazione comunale abbia scelto e deciso di aprire un nuovo mutuo nel tambito delle scuole, dopo che la tanto vituperata giunta a Chittò ne aveva aperto uno di pari importo per sempre intervenire sulle scuole. Quindi non è una cosa nuova, ma ci fa piacere che anche voi abbiate deciso di fare questo investimento delle risorse. Ora, la cosa che mi ha colpito nella relazione del Sindaco è che giustamente ha voluto rivendicare l'importanza del ruolo della nostra città nel contesto nazionale e addirittura internazionale. Questo a noi può fare solo piacere perché ci teniamo che la nostra città possa avere il meglio, ma parallelamente colpisce come nelle missioni dedicate proprio a questi temi dell'internazionalizzazione, della, possiamo dire, dell'accoglienza, le cifre non corrispondano alle parole. Ora, senza andare troppo lontani, ma la città di Milano risulta nelle classifiche tra le città, ad esempio, più visitate, tra le città che attirano presenze di turisti, turisti d'affari e attirano imprese. Ora, è curioso che noi, con tutti gli interventi che sono stati qui enunciati, che non nascono nel 2017, ma che alcuni di essi nascono anche prima, non trovino voce e attenzione nel bilancio e, nonostante, 820 mila euro arrivino dalla tassa di soggiorno. È un dato curioso su cui mi sono concentrato, avendo pochi minuti, e, essendo noi il Partito Democratico numerosi, ci siamo un po' suddivisi gli interventi e io per una volta ho scelto un argomento leggero. Ora, la cosa che però colpisce è come, ancora nella nota riepilogativa, quindi non una interpretazione del Partito Democratico, ma magari abbiamo letto male, questi 820 mila euro, solo 45 mila sono per eventi e quindi in qualche modo è riconducibile all'intenzione di far sì che Sesto possa essere più internazionale, più attraente, più attrattiva, più una città che cerca di rendere il proprio territorio un'opportunità per spendere del tempo e magari anche delle risorse, magari finanziare e sostenere quindi il commercio di vicinato o le peculiarità e i beni architettonici e artistici della città, che però, sempre nella voce di bilancio, hanno voci che non sono per niente in aumento se non anche pari a zero. Ora, il tema è questo, molte città hanno utilizzato questo tipo di leva, quella del turismo d'affari, del turismo di piacere, per rilanciarsi, per valorizzare e offrire servizi anche, non solo a favore dei turisti, delle imprese, ma anche dei cittadini e a noi sembra che non si colga questa opportunità e quindi ci sembra che in qualche modo venga meno quel concetto di Sesto più internazionale, Sesto più vicina, Sesto più sicura. Grazie. Grazie a lei, Maderloni. Altri interventi in aula? Non ci sono altri interventi in aula? Prego, Sede Cagliani, della parola. Buonasera e grazie, Presidente. Allora, io penso che questo bilancio, al di là delle parole riportate dal Sindaco, non apra affatto una scommessa sul futuro di questa città, ma mi pare che sia semplicemente la riproposizione, pari pari come l'anno scorso, di una gestione di carattere ragioneristica, preoccupata in particolare dei conti, più che dare una visione su quella che potrebbe essere la nostra città, non domani, ma dopo domani. E allora entro nel merito perché, vabbè, abbiamo pochi consiglieri, quindi forse ho un po' più di tempo dei miei cinque minuti. Allora entro nel merito del bilancio, nel quale tra l'altro rilevo variazioni, sì, ma di scarso significato. Nella nota di aggiornamento al DUP, ad esempio, per quello che riguarda i servizi alle persone, non vedo grandi novità, se non alcune correzioni che mi preoccupano un po'. Mi preoccupano un po' perché, ad esempio, ne cito alcune a modo esempio, ci sono alcune modifiche nel capitolo sostegno alle politiche abitative 4.1, anziché sportello di sostegno problematiche di sfratto, come è scritto nel DUP precedente, nelle note di aggiornamento del DUP, c'è scritto sportello di prevenzione situazioni che portano allo sfratto. Ancora, nelle azioni che l'amministrazione comunale si impegna ad attivare, anziché, prima azione, supporto educativo e sociale, al fine di abbattere gli ostacoli soggettivi per una vita abitativa dignitosa, è stato modificato e c'è scritto supporto formativo e sociale, al fine di minimizzare gli ostacoli soggettivi. Al punto 4.2 viene fatto un richiamo alla legge 3.2.8 del 2000, che prima non c'era. Allora, sono variazioni minime e chiedo ai consiglieri, ma siccome il diavolo è nei dettagli, a me piacerebbe capire il perché di queste variazioni, dove si batta dall'abbattere gli ostacoli soggettivi per una vita abitativa dignitosa, si passa al verbo minimizzare. Cosa vuol dire? Che non siamo più qui impegnati per ridurlo, il problema degli sfrati, ma per renderlo accettabile agli occhi della gente. Non ho tutto il tempo necessario per approfondirlo, però questi piccoli segnali mi preoccupano un pochino. Continuando sul tema dell'abitare, che è l'argomento che intendo trattare questa sera, come del resto mi avete sentito fare già in molti altri interventi in precedenza, è come garantire uno dei diritti fondamentali per una vita dignitosa, cioè il diritto alla casa. Abbiamo avuto, nell'anno che sta per finire, una media di due-tre sfratti al mese. E non tutti a noi noti, perché non tutti si rivolgono agli organismi sindacali. Spesso con presenza di minori. E la sua giunta, signor sindaco, è stata completamente assente, ignorando il problema ed evitando addirittura il confronto con gli organismi sindacali. Allora, su questo tema mi è capitato tra le mani, sfogliando tra le carte che ancora conservo di una precedente attività, questo foglio qui, titolo «Case popolari e housing sociale». Nonostante migliaia di appartamenti a disposizione del Comune, a Sesto non esiste una politica per la casa. La sinistra è arrivata addirittura a mettere in vendita alloggi pubblici per far quadrare i bilanci. Ne consegue la necessità di attuare un piano casa per tutti coloro che ne hanno diritto in base alla capacità di reddito. Terzo punto, housing sociale. Utilizzo, occhio, di strutture vuote in accordo con le proprietà per accogliere gli sfratti incolpevoli coinvolgendo le realtà del territorio. Ed è una frase che a me suonava abbastanza usuale a me come ex assessore. Non ve le leggo tutte, questo foglio qui. Finisce con «Controllo rigoroso del fenomeno della morosità colpevole e sostegno immediato nei casi di morosità incolpevole». Questo è il documento con cui il sindaco si è presentato alla città nel 2012 per chiedere il consenso dei cittadini. E allora mi viene da dire cos'è successo da allora? Ha cambiato completamente idea? Lei di tutto questo non ha fatto nulla. Devo pensare che ha preso in giro i cittadini? Lei, signor sindaco, in commissione, ha elencato una serie di interventi previsti in città grazie soprattutto al PNRR. Ma gli interventi sono sempre gli stessi che abbiamo già sentito più e più volte in questo anno e mezzo di consigliatura. Mi vengono in mente gli aerei di Mussolini, no? Che erano sempre quei tre o quattro che facevano girare ed era convinto di avere una flotta di aerei micidiale. Piscina Olimpia Marzabotto, la scuola Marzabotto, il nido Savona, le case SAP di Via Leopardi Magenta, la biblioteca comunale, eccetera, eccetera. Lei, signor sindaco, in commissione, ha decantato la sua abilità nell'aver ottenuto vari fondi dallo Stato e della Regione che consentono interventi edilizzi in città e noi, io in particolare, noi siamo felici che in città si faccia manutenzione a diversi stabili. Ma chiamare tutto ciò un nuovo piano Marshall, come ha usato lei in commissione, usando una certa enfasi, che non è tra l'altro nelle sue corde, signor sindaco. Usare il piano Marshall, l'ha detto con una certa timidezza, perché non ce l'ha nelle sue corde, in commissione sì, signor sindaco, vado a vedere il verbale che me lo sono segnato, me lo sono scritto. Non è nelle sue corde, è una cosa che invece padroneggia molto meglio e molto bene il suo assessore all'urbanistica, che invece usava il termine rinascimento o nuovo rinascimento nella presentazione di un intervento edilizio. Bisogna volare un po' più bassi, perché altrimenti si cade nel ridicolo. Io invece però ricordo che, a parte questi successi di questa amministrazione, che alcune gare le abbiamo anche perse e riguardano in particolare proprio il tema dell'abitare, che avrebbero potuto sì, queste gare perse, cambiare in positivo la vita dei nostri cittadini. Vi ricordate il progetto PINQUA? Vi dico solo il finale, qua stava per qualità dell'abitare, i progetti di intervento sulla qualità dell'abitare. Erano addirittura 15 milioni di euro, poi c'erano altri 15 milioni per sistemare le case pubbliche. Questi 30 milioni di euro sono spariti dal piano triennale delle opere, ma erano progetti che erano indicati da voi come primari, come una primaria importanza, spariti completamente senza alcuna spiegazione, perché è una giunta che costruisce la sua immagine vantando un successo dietro l'altro, le sconfitte le sottotace, non cerca di nasconderle sotto il tappeto. Nella nota ancora di aggiornamento al DUP ci sono altri passaggi che leggo con molta preoccupazione e mi riferisco in particolare al capitolo Opere pubbliche realizzate da privati, dove tutte le opere previste nel 2024, dal DUP precedente, slittano nel 2025. Allora, ve le leggo, perché queste in particolare mi preoccupano? Perché sono tutte inerenti grossomodo all'area FALC, dove dovrebbe venire la città della ricerca e della salute. Allora si dice parcheggio interrato che era marzo 2024 diventa settembre 2026 nel nuovo DUP. Sottopasso pedonale e stazione, che ha citato anche il sindaco nella sua introduzione, aprile 2024, adesso marzo 2025. Vi risparmio il ring, che vabbè, siamo al novembre 2026. Viabilità, unione, parcheggi in superficie, via ceierie, prolungamento via ceierie, barriere antirumore, rotatoria Giovanna d'Arco, rotatoria Trento, riqualificazione via Mazzini, sistemazione via ceierie esistente. Da agosto 2025 vanno a settembre 2026. Piazza Primo Maggio, più nuova bicestazione, da novembre 2024 slittano ad agosto 2025. Parco pubblico, comparto Unione, da dicembre 2024 a novembre 2026. E vi dicevo prima che la preoccupazione è grande proprio perché tutte queste opere insistono nell'area che dovrà vedere l'arrivo della città della ricerca e della salute. E questo sì, signor sindaco, questo progetto sì darà un nuovo volto alla nostra città per i prossimi, guardi, esagero, esagero anch'io come lei, signor sindaco, e dico per i prossimi cento anni, faccio una grande scommessa, così come è stato per la grande industria nel secolo scorso che è durata cento anni. Perché intorno a questo progetto può riprendere vita l'intera città con un'offerta di lavoro nel progetto Città della Ricerca che vedrà impegnate lavoratori e lavoratrici a turno H24, come purtroppo succedeva anche nella grande industria e come era per la grande industria, con un'organizzazione scolastica attorno a questo progetto centrale che potrà essere orientata a formare nuove professionalità nel campo della ricerca e della cura alle persone. Ricordate che la scuola dei Salesiani era nata in funzione della grande industria e formava aperiti meccanici, elettronici ed elettrotecnici a servizio della grande industria e c'era un collegamento diretto tra le due cose e potrebbe avvenire lo stesso per la città della ricerca e della salute perché cambiano anche le organizzazioni scolastiche in funzione degli interessi del lavoro. Con una comunità la nostra sì che allora tornerà ad essere centrale ed importanti a livello nazionale e che vedrà sul proprio territorio l'arrivo di alte competenze nel campo sanitario da varie parti del mondo, così come avveniva con la grande industria che arrivavano da tutto il mondo per vedere come funzionavano le acciaierie qui a Sesto. Ma questo progetto non è farina del vostro sacco, è solo una bella eredità che vi abbiamo consegnato noi, donne e uomini di sinistra, come veniamo definiti. A voi chiediamo solo, consigliere Montrasio, mi stia attento, a voi chiediamo solo di prestare tutta l'attenzione che merita per il bene della città. Seguite con puntualità le varie fasi di questo progetto. Fate pressione al privato, pretendete il rispetto del cronoprogramma che non è inizio lavori e fine lavori. Il cronoprogramma è tutta una serie di interventi che va proprio cronometrato e che io spero di avere quanto prima, vista la richiesta fatta in Commissione regionale. Se poi saranno veramente rispettati i tempi che ci hanno raccontato in Regione, 11-2026, novembre 2026, e magari in corso d'opera sarà migliorato il progetto. Signor Sindaco, io sarò il primo a festeggiare con lei il raggiungimento di questo obiettivo. Ma se così non fosse, la responsabilità sarà tutta e solo vostra. Grazie. Grazie, signor Cagliani, che è d'ordine in aula, rispettiamo gli interventi di ogni consigliere. Grazie. Buona parola al consigliere Pogliaghi da remoto. Prego, signor Pogliaghi. Consigliere Pogliaghi ci sente? Al momento non ci sente, vediamo se ci sono altri interventi in aula. Consigliere Vincelli, ha la parola. Grazie, Presidente. Buonasera a tutti i partecipanti e chi ci segue da remoto. Molto difficile intervenire dopo il consigliere Cagliani, dove ci dice che nella loro gestione chiaramente precedente di sinistra, da quando sono state chiuse le aree Falc, tutto è stato fatto, tutto è stato costruito. No. Diciamo le cose come sono andate. La sinistra non è stata in grado, dopo la chiusura chiaramente delle Falc, a gestire chiaramente questa situazione. Le aree Falc sono rimaste, tra l'altro, neanche bonificate. Le aree Falc sono state chiaramente partecipate da parte dell'Unione Europea e quindi circa 200 miliardi sono stati chiaramente dati alla famiglia Falc e in più queste aree sono state vendute senza bonifica. Voi, da parte vostra, la sinistra, non è stata in grado di gestire neanche la situazione bonifica. E da allora, fino a quando siamo arrivati chiaramente noi, diciamo che le cose sono rimaste ferme. Sono rimaste ferme perché non c'è stata da parte vostra la lungimiranza, la visione di una Pittsburgh, di una Manchester, dove chiaramente città dove sono state inquinate più di Sesto San Giovanni, i vari proprietari, sono intervenuti attraverso la gestione della rinascita di questi territori. A Sesto San Giovanni non è successo nulla. Eppure, diciamo che una parte della sinistra governava insieme alla democrazia cristiana, ma doveva partire esclusivamente da questa città, la rinascita delle aree Falc. Ciò che non è avvenuto. Quindi non venite a insegnarci oggi cosa noi dobbiamo fare, perché quello che stiamo facendo lo stiamo facendo dopo aver messo a posto i conti. Vi voglio ricordare che il 2017 ci avete lasciato un disavanzio di 21,7 milioni, 4,5 milioni di debiti fuori bilancio e 14 debiti per quanto riguarda i fornitori. Avete lasciato la città in un disastro, in un grande disastro. E adesso volete insegnarci a gestire chiaramente un comune o un'amministrazione come il Sesto San Giovanni? No. Questo non lo possiamo chiaramente accettare. Non accettiamo nulla di quanto effettivamente esce stasera dalle vostre bocche. Perché dite delle cose inesatte e delle cose inesistenti. Da parte nostra siamo riusciti nel dicembre 2021, dopo un predissesto, quindi un predissesto vuol dire che abbiamo dovuto aumentare, consigliere Pagani, le aliquote, certo, ai massimi, per non dare le chiavi al prefetto, per portare chiaramente al disastro economico questa città. Invece ci siamo assunti una grande responsabilità. E questa responsabilità i cittadini l'hanno capito. Tanto è vero che siamo stati confermati nella seconda amministrazione. E questo è un vanto della precedente amministrazione e di tutti i consiglieri qui di maggioranza presenti. Le aliquote e le tariffe sono i massimi, sì, certo, proprio perché c'è stato un predissesto. Però, diciamo, che sono rimaste chiaramente invariate dal predissesto ad oggi. Certo che noi potremmo effettivamente rivedere in un prossimo futuro queste che possono essere chiaramente le aliquote, certo. Perché no? Ma questo è il secondo bilancio di previsione che noi facciamo come questa amministrazione. Cioè non è che potete da una parte dirci che noi effettivamente non gestiamo questo comune mentre noi abbiamo tutti i requisiti, tutte le capacità, tutta la professionalità che ciò voi non avete avuto. E venite qui a raccontarci la favola perché non ci sono chiaramente ulteriori immobili, perché non ci sono chiaramente ulteriori risorse. Ma avete un gran fegato? Ma vi rendete conto di cosa state dicendo? Ma io farei prima un esame di coscienza e poi, e poi dopo anni, verrei chiaramente a proporre in modo serio quelle che sono chiaramente le proposte. Quello che voi effettivamente qui stasera state dicendo non corrisponde chiaramente a verità. Le risorse che la mette sugli immobili, per quanto riguarda le SAP, aumentiamo 300.000 rispetto al 2023. Per quanto riguarda la parte sociale e la parte educativa, noi aumentiamo rispetto al 2023 in previsione 600.000 per il sociale e 600.000 per l'educativo. Questi numeri non li avete visti? Eppure sono stati presentati. Sulla parte corrente le uscite sono 96 milioni, contro i 93 milioni. Mettiamo nelle partite correnti ciò che perverrà dagli oneri di urbanizzazione. 3 milioni e mezzo, non solo mica pochi. E ancora. Il verde urbano. Ma voi vi ricordate che eredità ci avete lasciato con la società precedente sulla verde urbano, su quelle che sono state le pulizie e la tasse rifiuti? Forse voi non vi ricordate che siamo dovuti andare davanti chiaramente a un tribunale. Questo non ve lo ricordate? Rispetto al 2017, al 2018, al 2019, oggi, scusate, il piano per quanto riguarda sia il verde e sia la raccolta di rifiuti di soli urbani è migliorata. Tanto è vero, tanto è vero, che il progetto per quanto riguarda la biopiattaforma è partito da questo Consiglio Comunale. O sbaglio? Quindi? Quindi non è partito il vostro far partire dagli anni precedenti dagli anni precedenti è rimasto solo sulla carta. Chissà perché noi abbiamo in qualche modo realizzato l'inizio di questa ristrutturazione. Voi l'avete solo poi votato il Consiglio Comunale. Scusate. Parliamo chiaramente di turismo, ma perché, scusate, il caro Ponte e il Lido ultimamente costruito cosa fa? Non porta gente chiaramente a Sesto San Giovanni? Eh, penso di sì. Per favore, io chiedo scelta. Penso, penso proprio, ma sì, ma li lasci pure parlare. È giusto che ci sia uno sfogo da parte della sinistra. Loro possono sfogarsi solo in questa aula. Fuori non hanno chiaramente voti. Per cui, ritornando al discorso del turismo, questo è, secondo me, molto significativo. Sulla questione PNR, scusate, ma sulla questione PNR è necessario essere capaci, avere professionalità, avere progetti e portarli a termine. Cioè, non basta solo chiaramente avere la questione PNRR, perché 75 milioni, consigliere Cagliani, non sono pochi, e girano sempre quelli. Certo, sono quelli che devono essere realizzati. Sono quelli che devono essere realizzati. Entro il 2026 ci sono altri comuni che hanno presentato neanche dei progetti. E purtroppo noi li abbiamo presentati, abbiamo un ufficio tecnico. Sulla questione chiaramente energetica, Regione Lombardia investirà chiaramente 32 milioni per quanto riguarda le PME. Piccole e medie industrie. È un fattore chiaramente positivo. Ci crede molto. Ci crediamo anche noi, tanto è vero che il sindaco vuole chiaramente un ufficio tecnico all'interno del comune. Quindi è una cosa positiva. Perché non chiamarlo piano Marshall? Come lo vogliamo chiamare? Piano di biscottini? No, è un piano Marshall perché comunque ha tutti i requisiti per essere un piano importante per il futuro di Sesto San Giovanni. Questa è la cosa importante. Io mi fermerei qui perché stasera ho già sentito già abbastanza da parte chiaramente della minoranza e ritengo che questa previsione che noi abbiamo fatto per il 2024 sicuramente sarà anche arricchita anche da altre situazioni che porteremo avanti sia all'interno delle commissioni sia all'interno anche della consulta delle imprese la quale io ho il piacere, l'onere e l'onore di presiedere. Grazie. Grazie a lei, consigliere Vincelli. Passo la parola al consigliere Ghezzi da remoto. Prego. Buonasera, mi sentite? Ti sentiamo, buonasera. Buonasera, scusatemi, sarò molto breve perché purtroppo sono ammalato. Scusatemi. No, volevo solo fare un paio di note sugli interventi che ho sentito precedentemente. Ma quando sentivo parlare dell'addizionale regionale non comprendo il discorso per cui l'addizionale la più alta che peraltro è quella che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione ancora nel 2017, non capisco in che senso comunque a prescindere dal fatto di averla ereditata questa sia discriminatoria rispetto alle fasce più deboli. Se io pago il 10% è sempre il 10% quindi se prendo 10 sarà 1, se prendo 100 pagherò 10 quindi 10 volte tanto quello che è proporzionalmente al mio guadagno quindi non è discriminatoria direi che è una percentuale quindi cerchiamo di dare ragione alla matematica in questo senso. Poi dopo si può parlare sul fatto che l'addizionale sia la più alta questo sarà un passaggio eventualmente da valutare in futuro. Per quanto riguarda la copertura le coperture sui nidi il fatto di aver migliorato le coperture e questo è soltanto un vantaggio o comunque una gestione di spesa più oculata. Sulle politiche verdi non mi sembra che il PGT sia insensibile a questo dal momento che più volte in commissione abbiamo sottolineato il fatto di come anche la riqualificazione degli immobili dismessi i famosi 20 e passa immobili dismessi sul territorio ci sono delle politiche di incentivazione sul fatto di riuscire a stare al passo con i tempi della transizione ecologica cioè questo o lo studiamo e lo guardiamo e lo vogliamo capire oppure facciamo finta di niente e diciamo che non ci sono politiche verdi a Sesto San Giovanni. Poi io mi permetto di dire che sul territorio si sta facendo un grandissimo lavoro dal punto di vista della trasmigrazione a ciclabile nel senso che ritengo che le ciclabili per esperienza personale ammetto un mio certo scetticismo iniziale che è subito cambiato nel momento in cui ho visto la realizzazione che è stata approntata di una ciclabile sicura protettiva nei confronti di chi la frequenta e quindi una cosa veramente che va spinta sul territorio e qua sarà interessante ragionarci anche nell'opportune sedi come ulteriormente incentivare davvero l'utilizzo di queste vie di comunicazione che sinceramente altrove non ho proprio visto basta andare in via Borgazzi verso Monza che si vede esattamente l'opposto pur in amministrazioni che non erano opposte a noi. quindi devo dire da noi è stato fatto un bellissimo e si sta facendo un gran lavoro in questo senso quindi chapeau questo per me è politica verde poi se dà fastidio perché lo sta facendo la destra questo lascio a chi la credine a chi ce l'ha nel cuore io quello poi che invito sempre a fare è se ci sono delle idee brillanti perché non vengono fuori in commissione? Cioè abbiamo del patrimonio che storicamente appartiene ad una fazione politica opposta alla presente ma ben venga ma ben venga che ci sia una proposta di tipo socio-culturale che possa emergere poi dopo se questo lo si vuole scambiare come lo si vuole tramutare o non lo si fa perché non è un sufficiente come dire bacino di voti a peeling come dicono gli inglesi vabbè questo anche questo lo lascio a chi ha la credine dentro ma invece quello che dovremmo cercare di fare è di valorizzare tutta una storia che sul territorio sestese sta cambiando grazie a questa amministrazione che sta in due mandati cercando di dare una svolta là dove purtroppo ci si era incancreniti su certe impossibilità perché quando si arriva a spendere 55 milioni di euro di investimenti vuol dire che o c'è la bacchetta magica cosa che non c'è perché il sindaco non è un mago oppure è stato fatto un buon lavoro di amministrazione innanzitutto economica perché bisogna ricordarsi sempre che l'ente ha lo scopo di sostenere la città ma innanzitutto aiutandola là dove non è capace essa stessa di governarsi rispetto alle urgenze che ci sono a volte succede anche questo poi io non credo nello stato etico sia chiaro però sicuramente il fatto di aver reso virtuoso una città parte anche da queste azioni quindi tanto di cappello io ringrazio davvero di questo lavoro che si è fatto grazie grazie consigliere Ghezzi passo la parola da remoto al consigliere Pogliaghi chiedo Massimo se iniziona una perché altrimenti facciamo difficoltà nell'ascoltare grazie prego Sire Pogliaghi Sire Pogliaghi non la sentiamo Sire Pogliaghi non sentiamo nulla mi sentite? adesso mi sentite ora? prego adesso sì perfetto allora scusate per i problemi tecnici che ho fatto per un po' di tempo e vado subito al mio intervento allora innanzitutto una cosa ribadisco il tema del bilancio il fatto che sia il primo bilancio preventivo prima alla fine dell'anno è la denotazione di una sanità dell'ente importantissima quindi questo ha un valore anche se è stato sminuito in alcuni precedenti interventi ha un valore che io voglio risottolineare che porta tantissima sostanza cioè finalmente restituisce a tutti i cittadini migliori servizi strutture e quant'altro poi faccio alcuni esempi perché parla a tutti non solo come sempre allo 0,x% come si è dovuto fare tante volte cercando di salvare il salvabile è stato citato anche queste situazioni critiche precedenti ma che possa parlare a tutti i cittadini restituendo servizi beni strutture per tutti quanti nel merito il carico fiscale invariato in una contingenza complicata non la sentiamo mi sentite? adesso si prego ok dicevo la possibilità di pianificare progetti PNRR perché a un certo punto è stato detto va bene ma qua il grande merito è il merito di chi ha portato ha portato grandemente voluto il PNRR ma il PNRR senza i cofinanziamenti non si progetta cioè il tema della progettazione che necessita di mettere dentro soldi per portare a casa risorse è fondamentale e delle volte ci vogliono risorse interne ci vogliono risorse esterne ci vogliono per arrivare alla cantierizzazione ci vuole tutto un lavorio molto ampio che richiede di nuovo un ente sano cioè un ente che possa lavorare tranquillamente pianificando nel tempo tutto quello che deve fare un lavoro di fino per ridurre l'evasione dei contributi se guardate tutti i trend di come dire i trend sul recupero tributario e extratributario sono tutti i miglioramenti questo conducono al fondo di dubbi esigibilità a ridurlo e quindi a liberare risorse o meglio a non bloccare risorse perché in quel caso il fondo blocca una stabilizzazione della copertura dei servizi cioè tutte queste cose denotano la base su cui si incentra poi la vision la vision che sono tutti i progetti spiegati su questo sono stati fatti alcuni commenti su molti commenti io non sono d'accordo devo dirlo nel senso che per esempio sulle politiche abitative guardate Milano l'aumento citato la consigliera Pagani di riqualificare e incrementare il patrimonio pubblico o la percentuale come dire di edilizia convenzionata ma guardate Milano per aumentare solo per aver annunciato di aumentare la percentuale di edilizia convenzionata sta facendo un disastro perché i prezzi le case aumentano anche principalmente per quello io lavoro in questo ambito quindi è un tema che mi è caro mi è caldo ma anche le politiche di supporto ai disabili i fondi le risorse sono aumentate erano 867 mila euro sono diventate oltre un milione più altri più altri fondi di supporto pari a circa 200 mila euro cioè tutto questo è portato dalla sanità del bilancio di cui abbiamo parlato ultimo ma non ultimo le politiche ambientali non è vero che c'è un tema di politiche ambientali solo sui rifiuti o sul decoro urbano i rifiuti sono la base anche per le politiche energetiche questo l'abbiamo visto non interpretando ma lavorando bene sul progetto della biopiatraforma lavorando continuativamente perché non è che è finito questo questo lavorio quindi anche su questo tema c'è dietro un pensiero e un lavoro per chiudere mi piace chiudere questo danno un aggettivo a questo lavoro che è solidità un lavoro che guarda al futuro con solidità con programmazione con attenzione al rispetto dei cronoprogrammi e delle date come citava il consigliere Cagliani soprattutto alle date di avvio dei cantieri non le avanti date di chiusura perché quello sono le date importanti un programma di investimenti in linea con il DUP che non è più il libro del sogno ma è un libro veramente da piano di lavoro serio e importante grazie grazie a lei consigliere Pogliaghi chiedo se ci sono altri interventi in aula prego consigliere Gatti ha la parola grazie presidente posso chiederle quanti minuti ho a disposizione ok la ringrazio Eva Cagliani ma non ti preoccupare grazie presidente saluto tutti i consiglieri presenti in aula quelli consiglieri collegati i cittadini che sono qui ad ascoltarci questa sera siccome il tempo è molto ridotto ma ho deciso comunque che ne ruberò una piccola parte per lamentarmi del fatto che il tempo è poco ritengo fondamentalmente ingiusto e profondamente sbagliato il condizionamento dei tempi in questi termini perché 5 minuti per parlare di 3 delibere sono secondo me secondo la mia valutazione un'assurdità di fatto impedendo che io possa entrare nel merito di tutto quello che avrei da dire ma mi trovo costretto a perdere ulteriori tempo per rispondere alle termine forti magari trivialità che ho sentito per uscire dal consigliere del gruppo misto le faccio presente perché non è mi interessa scendere nella bassa polemica di chi ha preso più voti o meno voti istante il fatto che è evidente che le elezioni le abbiamo vinte al centro-destra c'è la giunta che lo dimostra le faccio presente che la cosa che ci deve accomunare tutti invece di dire siamo stati bravi siamo stati belli ci hanno votato e a voi non va votato nessuno che a sé è andato a votare meno del 50% della popolazione quindi forse un problemino ce l'hanno tutti punto primo punto secondo eviterei di se si vuole difendere il bilancio di parlare di cose che col bilancio non c'entrano niente dimostrando anche secondo me una certa ignoranza su alcune cose che sono avvenute nella città negli ultimi vent'anni a cui forse tornerei indietro a controllare alcune cose soprattutto su quello che ha detto sulle bonifiche che non mi risulta abbia iniziato questa amministrazione comunale ma non perderò altro tempo volevo concedermi io di utilizzare i tre minuti che mi rimangono per parlare di un tema che nel bilancio è praticamente inesistente e che secondo me almeno tre minuti di attenzione la potrebbe richiedere che è quello e li metto insieme non per caso della cultura e dei giovani questo è un bilancio che è su queste fonti peggiorativo rispetto al bilancio dell'anno scorso e rispetto ai progetti che oggi voi avrete presentato si presenta secondo me una fortissima problematicità che mi auguro vi siate posti il tema di come risolvere anche se al momento non l'avete minimamente comunicato parto dai giovani l'anno scorso io mi lamentai insieme ad alcuni altri consiglieri del fatto che mettere 2000 euro di spese correnti sulla partita dei giovani fosse un insulto ritengo tuttora che sia un insulto ma questa volta sono diventati 4000 quindi è un insulto un po' migliore è semplicemente una cifra ridicola è una cifra ridicola che in commissione mi è stata giustificata come ma avremo modo di avere dei bandi esattamente come ce ne sono stati l'anno scorso e di finanziare con questi bandi le attività ora io mi auguro con tutto il cuore che ci siano dei bandi mi auguro con tutto il cuore che i bandi voi li vinciate mi auguro con tutto il cuore che i fondi con cui vincete i bandi siano sufficienti per mantenere una politica giovanile in questa città ma la realtà è che le politiche giovanile strutturate non si fanno con la speranza di vincere i bandi quelli sono risorse che bisogna provare a raggiungere ma la realtà è che con 4000 euro a bilancio in una città di 82.000 abitanti si sta dicendo ai giovani che non c'è nessuna politica strutturata nessuna politica che questa amministrazione ha in mente sin dal primo giorno del 2024 per un anno perché questo è un bilancio che la differenza dello scorso vive un anno quello scorso è durato sei mesi si sta dicendo che non ci sono politiche se arrivano risorse si fa qualcosa così state semplicemente continuando a tenere nel limbo della non esistenza la possibilità che questa città deve credere di poter avere sui giovani e sulla cultura perché l'ho citata perché lo spostamento della biblioteca di cui abbiamo già biblioteca centrale di cui abbiamo già discusso incontrerà nel rifacimento della piazza nella piazza di Largo La Marmora un altro problema perché non sarà più accessibile o fruibile o facilmente accessibile anche quello sparoacchio di biblioteca che è rimasto a Sesto San Giovanni e questo spero ci saranno spiegate ci saranno delle soluzioni rischia di creare un altro ulteriore allontanamento dei giovani da questa città perché i giovani che in questa città ci vivono non studiano qui se ne vanno vanno a Cinisello vanno a Milano vanno a studiare nelle sale studio delle università perché Sesto è inadeguata non ha spazi e sono due anni che andiamo avanti a dirci le stesse cose e non arriva mai niente di diverso da parte vostra mi permetta una battuta lascio perdere alcune cose sono state dette ma mi permette una battuta io credo consigliere Vincelli che non è in aula ma spero glielo riferiate che nessuno abbia mai preso un hotel a Sesto San Giovanni per andare alla piscina pubblica credo che questo a una piscina privata credo che questo sia effettivo buonsenso la tassa di soggiorno non è trainata dal Lido grazie grazie a lei altri interventi in aula non vedo altri interventi in aula a questo punto stavo per ma invece passo la parola al consigliere Foggetta per il consigliere che le imposto già i 15 minuti così non le interrompo nel caso le servono prego a mia discolpa devo dire che stavo ancora schiacciando il tasto qui mentre giustamente la consigliera Pagani mi ricordava che la prenotazione va fatta in altro modo adesso allora io parto da quanto ha detto quasi in chiusura del suo intervento il sindaco della sua relazione iniziale il sindaco sesto è diventata una città attrattiva o è tornata ad essere no credo che a Beretto è diventata evidentemente non lo era mai stato in passato e allora parliamo di attrattività e io vorrei partire da dalla polemica sull'albero di Natale mi girmi guardo l'assessora Iosa la polemica sull'albero di Natale in piazza Petazzi che sta imperversando sui social io devo dire che non sono accordo su quella polemica l'ho visto ieri sera per la prima volta perché tra malattie e un piccolo viaggio solo ieri sera sono riuscito a vederlo io l'ho trovato anche bello quell'albero mi è piaciuto mi piace non vorrei dire proprio stiamo parlando del bilancio di previsione sì rispondo all'attrattività di cui ha parlato il sindaco però se parliamo dell'albero di Natale delle stelle e comete non usciamo più prego beh lì avete aperto voi la strada attenzione però prego stavo dicendo che l'albero mi piaceva se vuole l'unica nota positiva che potevo dire nell'intervento allora lo elimino no no mi permetta di dire a me quell'albero piace l'ho visto ieri sera per la prima volta e sono rimasto anche piacevolmente sorpreso il problema non è l'albero il problema è quello che vedo tutto intorno è manca cioè le famose luminarie di Natale oltre a quell'albero oltre a quello che sarà messo in piazza Trento e Trieste oltre a quello in largo la marmora e forse ancora un paio che saranno messe in giro per la città però diciamo che per il resto da quel punto di vista la città è abbastanza è abbastanza spoglia perché parlo di questo perché le luminari non sono solo una questione di luci non sono solo una questione di rendere più luminosa la città sotto Natale è tutta c'è tutta una questione ben più ampia rispetto a questo mi ricordo anni fa vedo che l'assessore Lanzoni non è presente ma mi ricordo anni fa grosse polemiche sulle luminarie durante i Natali soprattutto quello del 2016 l'ultimo prima del del nuovo rinascimento sestese per me per noi le luminarie sono un'altra cosa sono un tentativo bentornato assessore Lanzoni mi permette una citazione qualcuno che stava seduto dall'altra parte fino a qualche anno fa parlando dell'assessore Lanzoni una volta si è permesso una descrizione che mi piace tanto si parte tutti incendiari e poi si diventa estintori ecco mi sarebbe piaciuto vedere le sue polemiche sulle luminarie che non vedo in giro per la città le luminarie sono un'altra cosa sono un regalare bellezza alla cittadinanza sono anche un sostegno per il commercio di vicinato perché settimana scorsa all'ultimo l'ultimo fine settimana sono stato a Cernusco e i negozi sono pieni a Cernusco e la città però è illuminata la città è piena oltre a quel bell'albero di Natale che abbiamo forse serviva anche qualcosa di più di sicuro quel qualcosa di più non può essere il villaggio di Babbo Natale a 80 euro a famiglia che c'è che c'è al Carroponte una cosa che di sicuro sta rendendo più luminosa la città in questo periodo di Natale ma come diciamo anche durante tutto l'anno è no non ce l'ho con lei Assessore Fiorino non si preoccupi sono i fuochi d'artificio vedo che Sesso San Giovanni sui fuochi d'artificio si sta specializzando si sta andando sempre su ogni argomento fuori tema no io non sto andando fuori tema perché stiamo parlando del bilancio di quanti soldi sono stanziati i settori ma non penso che c'entri il costo del biglietto del carroporto ma mi ascolti e vedrà mi ascolti e vedrà l'attinenza per provocare non mi trovo d'accordo mi ascolti e vedrà l'attinenza con tutto quello di cui sto andando a parlare però ci tenevo a dirlo va bene però l'ha già detto due volte mi ha già interrotto due volte evidentemente penso di aver motivo contento della sua attenzione nei miei confronti però sono già due volte in cui vengo interrotto fuochi d'artificio che leggo da un articolo della pagina facebook della lega non sono legati allo spaccio va bene si cita anche un articolo io mi permetto di dire che a fronte di quell'articolo ce ne sono tanti altri che dicono il contrario ma al di là di quale sia la ragione di questi fuochi d'artificio mi chiedo allora che cosa si intende fare per questi fuochi d'artificio e che cosa in questo bilancio si è stanziato in che modo questo bilancio stanzi fondi anche per dare risposta non solo a questi fuochi d'artificio che non saranno legati allo spaccio però quando ieri sera hanno svegliato mio figlio di 22 mesi alle 11 di sera comunque un certo fastidio a me come a tutti i padroni di casa come a tutti i padri come a tante persone continuo a darlo ma che cosa fa questo bilancio in che modo si muove questo bilancio per combattere quella microcriminalità che ce lo possiamo dire è molto aumentata soprattutto negli ultimissimi anni in che modo in che modo questo bilancio stanzi a fondi per dare risposte a queste anche a questa richiesta da parte dei cittadini e delle cittadine perché l'ultima volta che ci siamo incontrati durante una commissione per parlare di questo ci è stato detto che la ragione per cui c'è microcriminalità è perché ci sono tanti stranieri perché siamo vicini a Milano e perché i giovani non hanno rispetto per la divisa e allora torniamo al bilancio vede il presidente che c'entra e mi attacco a quanto diceva a quanto diceva poco fa il consigliere Gatti i giovani non hanno rispetto per la divisa mi permetta di avere tutta una serie di titubanze rispetto a questo ok e che cosa fa questo bilancio per dare per le politiche giovanili per implementare le politiche giovanili io in quei 4.000 euro non vedo qualcosa che riporti a ciò che cosa fa si dice che la microcriminalità aumenta perché ci sono tanti stranieri e percentualmente gli stranieri aumentano il tasso di criminalità intanto non è così il disagio aumenta il tasso di criminalità non gli stranieri non la nazionalità o la provenienza di regioni italiane ma che cosa si fa per evitare questo disagio dal punto di vista dei servizi sociali per evitare che il disagio diventi criminalità non lo so mi permetto di dire in un in un evento pubblico l'assessora alle pari opportunità ai servizi sociali ha parlato dei centri antiviolenza e ha detto quanto solo il 2% delle donne vittime di violenza si affacci ai servizi di questo genere io vorrei ricordare che a Sesto c'è un centro antiviolenza c'è un centro antiviolenza solo su 80.000 abitanti e passa che è aperto un pomeriggio a settimana ecco quindi non è che quel 2% di donne che si affacciano a questi servizi non lo fanno lo fanno e tutti gli altri il restante 98% non lo fa perché quel servizio non è abbastanza capillare in questa città anche in questa città perché questo non è un problema solo se stese e in questo senso quindi cosa c'entra col bilancio tutto ciò cosa c'entra col bilancio tutto ciò che cosa si fa per aumentare il servizio e la capillarità di un servizio di un centro antiviolenza a Sesto San Giovanni i servizi sociali lo dicevamo lo dicevano poco fa i miei colleghi da questa parte lo dico anch'io i servizi sociali come i servizi educativi come quant'altro possa centrare con la cultura e con le politiche giovanili vedono un innalzamento in alcuni casi irrisorio parliamo di un di un bilancio di oltre 174 milioni di euro si diceva prima a fronte di questo l'aumento di 600 mila euro di cui vi state vantando secondo me secondo noi non è e non può essere abbastanza in alcuni altri settori vedo le politiche giovanili vedo altro invece l'aumento è ancora più irrisorio ma nel frattempo però pubblicizziamo una scuola privata che propone il metodo Montessori ecco che cosa si fa in questo bilancio per portare il metodo Montessori nelle scuole pubbliche che sono quelle che di più dovrebbero essere preoccupazione della della giunta sestese e di chi si occupa di educazione perché non fa perché non ragionare una sperimentazione montessoriana dentro le nostre scuole perché questo non c'è questa voce nel nostro nel nostro bilancio non c'è perché non investire di più nell'educazione in generale lo diceva prima la consigliera Pagani minore spese nei nidi vuol dire sono dovute al fatto che ci sono c'è un minor numero di nidi ma mi permetto di riportare anche qualcosa che avevo detto qualche tempo fa rispetto alle tante polemiche che sto sentendo dovute ai tempi brevi nei nidi quante persone quante famiglie si sono viste rispondere a fronte di una richiesta anche di tempo prolungato si sono viste rispondere con un tempo breve nei nidi e a tale proposito mi permetto di dire che chiederò su questo una commissione perché sono davvero tante molte le polemiche molte le famiglie che stanno chiedendo di avere risposte in questo senso e non solo famiglie come la mia anche la mia anche mio figlio non ha avuto il tempo il tempo pieno al nido ma io ho quattro nonni qui tra questa città e quelle vicine che se ne possono occupare altri invece non hanno neanche quel servizio quindi chiederò una commissione per capire in base a quale criteri in base a cosa si sia scelto e soprattutto chiederò che cosa in questo bilancio di cui stiamo parlando questa sera si fa per evitare che il prossimo anno scolastico succeda la stessa cosa questo lo ripeto questo minore questo minore investimento perché possiamo anche parlare di un minore investimento a fronte di un'inflazione che è sempre maggiore i non investimenti o i minimi investimenti vogliono dire dei non anche i minimi investimenti vogliono dire si trasformano in non investimenti questo non vale solo per il settore di cui ho già parlato vale per la cultura vale per le politiche giovanili vale per il turismo sul quale sul sesso si potrebbe sesso si potrebbe trasformare nella prossima Pittsburgh o Manchester come diceva il consigliere il consigliere Vincelli l'importante è investirci l'importante è investirci e di sicuro non mi ricordo chi lo diceva il turismo non aumenta perché c'è l'ido estivo non aumenta perché c'è l'ido estivo lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio sono contento che la gente che tutti abbiano detto che invece si sta facendo questo si sta facendo quello anche la biopiattaforma di via Manin lo ha ricordato il consigliere Pogliaghi poco fa ma il consigliere Pogliaghi vuole vuole ricordare per onestà intellettuale dove nasce quella biopiattaforma e che non nasce dal 2017 vuole per onestà intellettuale ricordare che quel progetto nasce ben prima del 2017 come ben prima del 2017 nasce ed è inutile consigliere Vincelli che provi a negarlo che prova chiedo scusa a negarlo molto prima del 2017 nasce il progetto della città della ricerca della salute molto prima e anche le bonifiche grazie a chi me lo ha me lo ha me lo ha me lo ha suggerito da lì e dire che le bonifiche sono iniziate dopo perdonatemi ma è davvero una mancanza di onestà intellettuale per non dire disonestà intellettuale e quella quella città della ricerca della salute che porta 75 milioni di opere a scomputo si è fatto un gran parlare negli ultimi anni di continuo di quello che ci avete lasciato voi delle vecchie amministrazioni bene ricordiamolo questi 75 milioni di opere a scomputo vengono da un'opera che sindaco mi ricordi il partito che lei oggi rappresenta chiedeva a gran voce con i manifesti per strada al vecchio sindaco al vecchio presidente di regione Lombardia di non far venire a sesto se li ricorda quei cartelli pubblicitari consigliere Vincelli 300 milioni qualcosa del tipo per favore presidente Maroni non far venire la città della ricerca a sesto queste erano parole della Lega che è il partito di rappresentanza del mio sindaco in questo momento di un gruppo consigliare di maggioranza e di un assessore cercare di rivendervi come vostra la città della ricerca e della salute ma permettetemi è ben oltre la disonestà intellettuale ben oltre tanto tanto che sindaco mi correga se sto sbagliando qualche settimana fa qualche settimana fa abbiamo cercato abbiamo fatto una commissione si è fatta una commissione in regione in cui lei è stato invitato a parlare di quello che si sta facendo per la città della ricerca della salute il suo intervento iniziale mi correga se sto sbagliando è stato di 4 minuti e 27 secondi tanto per ricordare quanto ci tenga e quanto ci abbia tenuto chi oggi fa parte di questa giunta e di quella maggioranza a questo progetto e poi 5 milioni tutto ciò facciamo dei conti 31 milioni di tra PNRR 31 milioni tra PNRR e Piano Lombardia 75 milioni di opere a scomputo per città della ricerca e della salute ad avercele avuti all'epoca entrate di questo tipo tra l'altro i 5 milioni del Piano Lombardia i 5 milioni che arrivano dalla regione quel Piano Lombardia che qualcuno chiama legge mancia e che sta creando un buco enorme vedo che sorride il sindaco perché evidentemente la invito a chiudere è passato il tempo prego Presidente sto chiudendo sto chiudendo e ho visto altri consiglieri a cui sono stati lasciati anche uno o due minuti io in capigruppo dove lei non c'era ho fatto presente che aveva lasciato qualche minuto in più se parlavamo di bilancio di previsione ma io di cosa sto va bene tanto non è un problema il fatto che qualunque cosa io dica vada fuori tema ormai mi sono abituato e non è importante sopravvivrò anche a questo ne sono certo volevo solo dire che quei 5 milioni che entrano da una parte usciranno da un'altra sotto forma di quel buco nei servizi che Regione Lombardia erogherà nei prossimi anni e che domani andremo a discutere nel andranno a discutere i consiglieri regionali in Regione Lombardia niente basta la ringrazio altri interventi in aula non ci sono altri interventi in aula dichiaro chiusa la discussione a questo punto procediamo in questo modo passiamo adesso vi dico come svolgiamo i lavori di seguito essendoci presenti anche alcuni ordini del giorno passiamo a dichiarazione di voto e alla votazione della delibera numero 1 dopodiché passiamo agli ordini del giorno ce ne sono due per la delibera numero 2 con relativa dichiarazione di voto e votazione poi passiamo alla delibera numero 3 dove ci sono presenti 4 ordini del giorno per poi prima di chiudere su questa lascio la replica eventualmente a sindaco assessori che vorranno intervenire per poi andare in dichiarazione di voto e in votazione della delibera sul bilancio di previsione passiamo quindi adesso alla dichiarazione di voto della delibera numero 1 ricordo che per la delibera numero 1 e numero 2 sempre come stabilito in capigruppo la dichiarazione di voto consiste semplicemente nell'indicare l'intenzione di voto iniziamo città in comune consigliera Pagani grazie presidente Contrari reinventiamo sesto consigliere Foggetta perché lo scusa alleanza di sinistra consigliere Foggetta grazie presidente Contrari Lega Salvini Premier consigliera Pini Passo la parola consigliere Salvatore Romano Buonasera Gruppo Lega favorevole Forza Italia consigliere Valsecchi Grazie presidente il gruppo consigliere Forza Italia è favorevole Partito Democratico consigliere Maderloni Buonasera il partito democratico è contrario Gruppo Misto consigliere Vincelli favorevole Amiamo sesto consigliere Molteni Grazie presidente Buonasera a tutti perché non ho ancora salutato il nostro voto sarà favorevole Fratelli d'Italia consigliere Turolla Grazie presidente voto favorevole Stefano Sindaco consigliere Pogliaghi consigliere Bonatole la parola prevole Chiudiamo la dichiarazione di voto passiamo alla votazione della delibera di cui al punto 1 preparo la votazione possiamo procedere con la votazione mancano due voti consigliere Rapini consigliere Cupido teniamo un secondo che da remoto altrimenti procediamo con il voto ci stiamo stiamo procedendo consigliere Cupido se vuole ci dichiari pure il voto ecco arrivata la votazione abbiamo 23 voti validi su 23 16 voti favorevoli 7 contrari la delibera viene approvata procediamo con l'immediata eseguibilità prego procediamo 23 voti validi su 23 16 voti favorevoli 6 contrari 1 astenuto la delibera dichiaro la delibera immediatamente esecutiva consentitemi un minuto che passiamo passiamo adesso la delibera numero 2 come dicevo prima sono stati presentati due ordini del giorno a questa delibera faccio subito una premessa gli ordini del giorno in totale erano 7 ma una delibera quella a firma del consigliere Foggetta devo dichiararla inammissibile in quanto ci sono dei vizi di forma e di contenuto procediamo 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 al allora i due ordini del giorno partiamo con l'ordine del giorno primo firmatario Ernesto Guido Gatti ordine del giorno numero 1 passo la parola al consigliere Gatti per la presentazione grazie presidente allora questo emendamento è diciamo il primo di due emendamenti molto simili che hanno fondamentalmente la stessa idea adesso prenderò i 5 minuti per spiegare il contesto e l'obiettivo di questo primo emendamento credo sia credo sia di comune siamo tutti d'accordo nel dire che negli ultimi tre anni una serie di sfortunati eventi la pandemia la guerra il caro energia il caro materiali e l'inflazione ovviamente tutti gli ultimi tre sono legati alle due situazioni internazionali che si sono venute a creare però sono tutte cose molto grandi molto sopra la nostra testa ma che hanno avuto un impatto molto reale sulla vita dei cittadini per questo come gruppo del Partito Democratico abbiamo ritenuto di scrivere questo ordine del giorno che richiede una cosa molto semplice ovvero che durante il 2024 e in vista del bilancio di previsione finanziario del triennio 2025 e 2027 si impegni il Consiglio Comunale di Tutto impegni la Giunta Comunale a alzare la soglia di esenzione dal tributo del reddito di importo pari o inferiore ad euro 15 mila quindi alzare questa soglia dai 12 attuali ai 15 mila l'obiettivo è credo sia chiaro ed evidente è quello di andare incontro a una fascia di popolazione che è presente sul nostro territorio e che ha visto negli ultimi tre anni soprattutto erodere il proprio potere di acquisto la propria capacità anche banalmente di arrivare a fine del mese del pagare delle bollette che sono sempre più care e in generale un costo della vita in aumento credo che come Consiglio Comunale sia coerente e doveroso quantomeno impegnare la Giunta nel valutare se ci sono le condizioni economico-finanziarie per provare ad andare verso un aiuto che dal punto di vista sociale secondo me potrebbe essere determinante vi faccio purtroppo i dati che sono in mio possesso sono parziali ma vi voglio semplicemente evidenziare che ci sono nella nostra città già 6.815 persone tra i 10.000 e i 15.000 euro di reddito annuo vuol dire che parte di queste più o meno presumo circa la metà è oggi interessata dall'esenzione l'altra metà no ovviamente l'impoverimento di questa fascia è evidente perché non anche a redditi che sono rimasti costanti l'aumento del costo della vita e l'aumento del costo dei materiali è stato determinante nel appunto erodere la ricchezza di questi persone fisiche e di queste famiglie niente fondamentalmente fondamentalmente l'ODG chiede ribadisco di in realtà è un impegno abbastanza blando secondo me di facile assunzione ovvero quello di una valutazione verso l'inalzamento della soglia ci auguriamo che il Consiglio Comunale e la Giunta siano d'accordo con noi grazie grazie a lei passo la parola al Signor Sindaco in merito a quest'ordine del giorno prego grazie Presidente ringrazio anche il Consigliere Gatti per l'ordine del giorno se mi consente faccio mio l'ordine del giorno con raccomandazione considerando che come avete visto nella presentazione l'equilibrio in parte corrente avviene con gli oneri di urbanizzazione sul 2024 sul previsionale sugli anni successivi il delta di differenza è di un milione e due però salvo gli equilibri di bilancio c'è la massima disponibilità e la volontà a attuare prendere in considerazione andando incontro a quelle che sono le esigenze di una popolazione che ha un reddito tra i 12 e i 15 mila euro ci mancherebbe grazie passiamo all'ordine del giorno numero 2 sempre primo firmatario Consigliere Gatti merito alla delibera a posta di delibera numero 2 ha la parola Consigliere Gatti per la presentazione dell'Odg grazie Presidente ovviamente acconsento al fatto che il Sindaco e l'amministrazione facciano proprio il primo DG come vi anticipavo e quindi qui sarò più breve nella trattazione del contesto il secondo è fondamentalmente un fratello del primo ordine del giorno che va però a chiedere una cosa diversa cioè non va ad analizzare la questione della soglia ma la questione dell'aliquota come abbiamo discusso anche questa sera Sesto applica il massimale dell'aliquota addizionale nella misura dello 0,8% per tutte le fasce superiori ai 12.000 euro noi crediamo che compatibilmente con le possibilità di bilancio sia opportuno che questo Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta nel valutare che nel bilancio di previsione finanziaria del prossimo triennio quindi 2025 2027 ci sia la valutazione quantomeno all'inserimento di maggiori scaglioni di IRPEF mi prendo solo un minuto per fare un esempio che magari è ravvisabile da tutti facile funziona così in comuni a noi vicini un esempio su tutti è quello di Arese che trovo particolarmente virtuoso dove sono addirittura 4 gli scaglioni partendo da un'aliquota dello 0,49 arrivando per i redditi più alti all'aliquota dello 0,8 la riterrei una forma di giustizia sociale che si incanala perfettamente nel solco della proporzionalità previsto dalla nostra Costituzione e ritengo che compatibilmente con il bilancio e compatibilmente con gli equilibri questo Consiglio Comunale possa dirsi concorde nel quantomeno valutare che questa cosa possa essere applicabile anche nella nostra città come già avviene in molti altri comuni nel prossimo bilancio di previsione grazie grazie passo la parola al Sindaco grazie Presidente grazie anche al Consigliere Gatti come sull'ordine del giorno di prima se d'accordo faccio mio l'ordine del giorno con la raccomandazione sempre al rispetto di quelli che sono gli equilibri di bilancio grazie grazie a lei a questo punto avendo il Sindaco accettato i due ordini del giorno con riferimento a questa proposta di delibera numero 2 possiamo passare alla dichiarazione di voto della delibera nel suo complesso anche in questo caso solo per dichiarare se favorevoli o contrari consigliere Pagani città in comune grazie Presidente il nostro moto di astensione alleanza verde a sinistra consigliere Foggetta astenuti lega Salvini Premier consigliere Pini consigliere Romano favorevole forza Italia consigliere Cupido consigliere consigliere Cupido consigliere Valsecchia della parola grazie Presidente il voto di forza Italia favorevole segnalo che da remoto dicono che per poter votare devono uscire dall'aula forse per quello che impiegano un po' di tempo e non riescono a collegarsi attenderemo poi se siete d'accordo eventualmente la dichiarazione di voto la fate voi in aula nel caso ci sono problemi Partito Democratico consigliere Maderlo Partito Democratico si astiene Gruppo misto consigliere Vincelli favorevole favorevole amiamo sesto consigliere Molteni grazie voto favorevole fratelli Italia consigliere Turolla grazie voto favorevole consigliere Bonato di Stefano Sindaco grazie voto favorevole prepariamoci per la votazione bella delibera apro la votazione attendiamo i due voti da remoto consigliere Amilazzo consigliere Ghetsi consigliere Amilazzo ci siamo 23 voti validi su 23 16 favorevoli 7 astenuti la delibera viene approvata procediamo per la votazione dell'immediata eseguibilità apro la votazione abbiamo 23 voti validi su 23 di cui 16 favorevoli 7 astenuti dichiaro immediatamente esecutiva la proposta di delibera numero 2 passiamo alla proposta di delibera numero 3 in questo caso sono stati presentati 4 ordini del giorno partiamo dall'ordine del giorno numero 3 primo firmatario consigliere Gatti al quale passo la parola per la presentazione grazie presidente è una partita a ping pong ormai allora questo ordine del giorno è legato ovviamente al bilancio di previsione finanziario ed è nella mia visione di quello che è stato il percorso del tema della salute mentale all'interno di questo consiglio comunale un altro passo nella giusta direzione credo che tutti insieme perché devo dire che seppur sollecitazione del gruppo del partito democratico sempre tutto il consiglio comunale si è schierato favorevole l'idea è quella di fare un altro passo per dimostrare un'attenzione unanime su un tema così importante come quello dell'attenzione al disagio psicologico e a tutto ciò che lo circonda o è parte di questo argomento cosa si chiede si chiede fondamentalmente alla giunta di impegnare che il consiglio comunale impegni la giunta e il sindaco a valutare in occasione della prima variazione di bilancio sul bilancio del 2024 2026 o in occasione del bilancio di previsione finanziaria 2025 e 2027 un aumento della spesa relativa al sostegno al disagio psicologico e alla relativa creazione di campagne comunicative fondamentalmente qual è l'idea qual è il focus è quello di dare seguito a una mozione che è stata approvata in maniera unanime dare seguito a degli emendamenti del partito democratico che sono entrati all'interno del DUP e oggi dare a queste idee a questi progetti a queste proposte che nascono dal gruppo del partito democratico ma che sono sempre state condivise da tutte le forze politiche anche in futuro le gambe per effettivamente poter camminare perché non basta un impegno come una mozione o anche una scrittura all'interno del DUP per trovare e allocare i fondi perché quelle che sono dei progetti trovino poi le risorse per diventare realtà credo per questo che in continuità con quello fatto in passato questo Consiglio Comunale possa trovarsi d'accordo su questo tema e dunque impegnare ancora una volta la Giunta e il Sindaco ad impegnarsi sempre maggiormente per portare l'attenzione verso la salute mentale a Sesso San Giovanni grazie 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 passo la parola al Sindaco grazie Presidente ringrazio ancora il Consigliere Gatti faccio mio anche questo ordine del giorno con raccomandazione considerati quelli che sono gli equilibri del bilancio e anche il documento unico di programmazione che è stato modificato aveva già previsto un incremento della spesa su questo che è il disagio psicologico quindi se per lei va bene lo faccio mio grazie grazie procediamo con il secondo ordine del giorno con riferimento alla proposta di delibera di cui appunto 3 primo firmatario consigliere Cagliani al quale passo la parola per la presentazione allora chiedo scusa è quello del villaggio questo perché tra le presentazioni allora sì giusto per informare per informare i consiglieri questo è un appello che raccogliamo dal presidio pace di Sesto San Giovanni è un invito che il presidio ha fatto all'intera città indicando addirittura i riferimenti per chi volesse dare un contributo economico a questo tipo di esperienza ed è una seconda richiesta che invece riguarda il gemellaggio questo è un villaggio che è nato nel territorio di Israele ed è un'esperienza unica esiste da oltre 50 anni chiedo scusa ma leggo nell'appello che è stato inviato alla città in cui convivono un centinaio di famiglie ebree e arabe palestinesi che in un dialogo continuo su un piano di assoluta parità cercano di costruire insieme un orizzonte nuovo in particolare per i più giovani fondamentale è l'approccio educativo bilingue e binazionale del villaggio che ha costruito un asilo nido una scuola materna una scuola primaria in cui ogni classe è formata per metà da bambini ebrei e per metà da bambini arabi la prima esperienza di questo tipo in Israele oggi imitata da altre realtà accanto a queste la scuola per la pace che organizza laboratori di gestione dei conflitti e il centro spirituale pluralista questa è un po' l'organizzazione di questo villaggio ripeto è un'esperienza che è collocata oggi in quel territorio che vive tutti i giorni da più giorni una situazione veramente tragica è una piccola luce una piccola fiammella che tiene a seggio e tiene acceso un messaggio universale la propongo perché è uscita comunque già in città questa proposta e questo invito e la propongo in aggiunta al gemellaggio come esisteva una volta il gemellaggio è un patto di amicizia che può concretizzarsi in un contributo da parte dell'amministrazione o anche solo in uno scambio tra scuole come avveniva all'epoca quando avevamo i patti di gemellaggio con Saint Denis e con l'ex Gotwaldov e poi non ricordo più il nome successivo dopo la caduta del muro della città cecoslovacca cechia dove avvenivano scambi tra studenti tra studenti della stessa titolo di studio la stessa scuola che possa avvenire anche qui a Sesto sarebbe un bel messaggio io invito i consiglieri ad ascoltare la voce della loro coscienza più che l'appartenenza magari a un determinato gruppo politico o a un gruppo della società civile e a votare come invita la vostra coscienza grazie grazie a lei passo la parola al sindaco in merito a custodio del giorno grazie presidente ringrazio anche il consigliere Cagliani e allora fermo restando la bontà della sua iniziativa credo che non sia questa la delibera di riferimento e neppure l'odg sia lo strumento l'ordine del giorno sia lo strumento per fare dei gemellaggi un ordine del giorno al bilancio per fare un gemellaggio o richiedere gli aiuti di Stato questa ha tutti i presupposti per essere una mozione non un ordine del giorno al bilancio tant'è vero che gli aiuti di Stato così come vengono richiesti non sono in capo al comune i comuni possono stanziare risorse allora lì sarebbe stato più corretto che il consigliere avesse presentato un emendamento al bilancio affinché venissero creati delle voci di spesa da poi e per poi avviare delle procedure ad evidenza pubblica per individuare o una realtà o un progetto da sostenere quindi ritengo che sia la procedura non sia legittima sia lo strumento non sia legittimo e invito magari il consigliere a presentare una mozione ma non un ordine del giorno al bilancio di previsione che tratta tutta altra materia come abbiamo visto nella discussione fino ad oggi e questo tratta tutt'altra discussione grazie passiamo all'ordine del giorno numero 5 sempre con riferimento alla delibera di consiglio in merito all'approvazione del bilancio di previsione se posso presidente cioè a me pare che nel momento in cui è stato dichiarata ammissibile l'ordine del giorno è logico chiedo scusa apriamo la discussione ah no adesso dice un'altra cosa prego adesso per rispondere al sindaco prego prego se è stato dichiarato ammissibile l'ordine del giorno vuol dire che è compatibile con la delibera ed è chiedo scusa è un invito che viene fatta all'amministrazione di prendere in seria considerazione questa proposta me l'avrebbe rifiutata la segreteria me l'avrebbe rifiutata come ha rifiutato l'ordine del giorno del consigliere Foggetta quindi io ritengo che sia comunque valido poi no no attenzione questo ordine del giorno è stato ammesso in aula a differenza esatto questa è la posizione del sindaco un errore lo stavo facendo io adesso nel proseguire nel senso che no lo stavo facendo io ho commesso io un errore nel senso che preso atto della posizione del sindaco su questo ordine del giorno adesso passiamo alla discussione dell'ordine del giorno in questione ricordo 5 minuti per ogni gruppo consigliare per poi metterlo in votazione quindi la differenza fra questo ordine del giorno e quello invece dichiarato inammissibile sostanzialmente è questa ho deviato io passando alla lettura dell'ordine del giorno successivo chiedo scusa ma manca appunto questa fase quindi in questo momento in merito all'ordine del giorno in questione apro la discussione sull'ordine del giorno 5 minuti per ogni gruppo consigliare dopodiché certo anche voi come partito democratico dopodiché passiamo alla votazione dell'ordine del giorno che faccio già una premessa la faremo ad alzata di mano perché nel sistema non c'è caricato l'ordine del giorno quindi apro la discussione chi si vuole chi si vuole prenotare prego vale la parola sì grazie presidente no allora volevo fare una riflessione in merito rispetto al contenuto innanzitutto nel senso che eh questo ordine del giorno come eh spiegava il consigliere Cagliani è in realtà stata una richiesta presentata alla città da un'entità che è un insieme di associazioni è un'associazione si dice di secondo livello perché appunto è un insieme di associazioni che rappresentano diverse sensibilità anche differenti sul territorio che però si sono trovate eh sulla questione come dire del tema della pace e stanno eh che è più che mai attuale e stanno lavorando insieme nel tentativo di costruire mantenere attenzione su questo tema in città che è cosa complessa perché un conto è guardare come dire quello che accade attraverso il telegiornale e pensare che per quanto possa essere mh atroce quello che si vede eh c'è una distanza fondamentale tra noi e quello che accade e un conto invece è valorizzare una cultura anche all'interno del territorio in cui ci diciamo che ciascuno di noi può fare un pezzo e che questo pezzo è fondamentale ora alcuni possono considerare questo tipo di posizione profondamente ideologica poco consistente io penso che invece ci voglia molto coraggio ad assumersi anche nelle proprie azioni piccoli grandi che sia quotidiane non solo una posizione ma rivendicare anche che le posizioni sono frutto di cambiamenti che sono necessari quindi allora io non disquisisco sulla questione degli strumenti al netto del fatto che bisognerebbe aprire una discussione sugli strumenti in consiglio comunale e avendo pochissimi minuti evito di farla credo che l'intenzione fosse molto chiara e credo che l'impegno da parte dell'amministrazione con una sensibilità ad intervenire o meglio a capire come costruire attenzione rispetto a questa richiesta sia un segnale importante rispondere che questo strumento non è lo strumento adeguato e che era meglio un altro strumento non è sufficiente perché questo è un tema che non può essere trattato soltanto dal punto di vista tecnico era meglio fare un emendamento piuttosto che fare un ordine del giorno magari sì magari sì ma di fatto il tema prescinde dello strumento e io credo che sia importante da parte dell'amministrazione comunale riflettere e prendere impegno rispetto al fatto ma innanzitutto che esistono nel mondo degli esempi virtuosi di che cosa vuol dire costruire la pace e che l'esempio citato di questa comunità da parte del consigliere Cagliani lo è ancora di più perché è facile essere pacifici quando si vive in un paese di pace difficile essere pacifici quando si è in una zona di guerra e quando la persona vicino a te è potenzialmente un tuo nemico queste sono in realtà le pratiche come dire di pace più complesse e forse anche più significative nell'ultimo minuto è qualcosa che mi resta a disposizione dico anche questo i gemellaggi o i patti di amicizia sono molto spesso abbastanza snobbati nelle amministrazioni comunali in realtà hanno un grande valore noi abbiamo in generale consigliere Vincelli non è che parliamo sempre di lei o di quello che pensa lei esiste un mondo al di fuori del consiglio comunale di Sesto e anche della sua testa e quindi i patti di amicizia noi abbiamo un patto di amicizia significativo che abbiamo festeggiato nel 2019 abbiamo festeggiato vent'anni dieci anni del patto scusate dieci anni di questo patto di amicizia tra la comunità di Langestand dove sorge il campo di concentramento di Gusen e la città di Sesto Son Giovanni guardate che in questi dieci anni di patto di amicizia abbiamo costruito delle pratiche estremamente importanti dal punto di vista della pace dal punto di vista del confronto delle persone e delle azioni che insieme si possono costruire io credo in queste pratiche sono assolutamente convinta che abbiano un valore e credo anche che stare in Europa e stare nel mondo significhi questo cioè significhi superare provare a superare le conflittualità e cercare strade alternative alla guerra e ai conflitti grazie grazie le atrocità di Hamas va avanti oggi con una reazione da parte dell'esercito e del governo israeliano ben oltre lo spropositato quello che io penso che sia forte che sia potente di questa richiesta di questo di questo di questa sperimentazione del villaggio di cui si parla è che è davvero una sperimentazione la prima e unica forse messa in pratica di quella che è una dottrina di cui si parla da sempre di cui tutti parlano e che tutti vedono come l'unica possibilità vera per quel triste angolo di mondo che è quella dei due popoli due stati qui addirittura si va oltre due popoli in un'unica in un'unica in un unico stato in un unico villaggio in un unico contesto quella dei due popoli due stati è una una richiesta che arriva da tutte le parti da tutte da tutte le parti politiche oggi a maggior ragione dopo quello che è iniziato dal 7 ottobre che continua ancora tuttora la richiesta dei due popoli due stati è è stata portata avanti dal nostro ministro degli esteri Tajani che ha dichiarato che quella è l'unica possibilità che ha quell'angolo di mondo per uscire dalla situazione che tutti conosciamo lo ha detto lo stesso ministro Salvini nella manifestazione in in piazza Duomo lo ha detto la stessa presidente Meloni in diverse dichiarazioni in diverse occasioni quindi questo è davvero quello che noi ci auspichiamo quello che penso tutti ci si auspichi per riportare pace in in Israele come in in Cisordania in Palestina qui stiamo parlando di qualcosa che va addirittura e davvero anche molto molto oltre mettendo insieme pacificamente facendo coesistere due popoli che sappiamo come non riescano a convivere in questo momento in altri in altri contesti in un unico in un unico villaggio per questo io penso e sono d'accordo con quanto diceva poco fa la consigliera Pagani di provare ad andare oltre il vizio di forma di cui di cui si è parlato poco fa anche perché appunto se è stato davvero se è stato dichiarato ammissibile il 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 questo ordine del giorno è evidente che quanto diceva il sindaco è un parere legittimo ma è un parere sul quale noi possiamo votare possiamo votare in difformità io sarei contento se davvero questo ordine del giorno passasse all'unanimità perché stiamo davvero lavorando per qualcosa ci appoggeremmo appoggeremmo un progetto che è davvero qualcosa di di grande altri interventi in aula in merito a quest'ordine del giorno consigliere Bonato le la parola grazie presidente e approfitto per salutare tutti allora volevo leggere per precisione cosa c'è scritto diciamo in uno dei due capoversi di questo ordine del giorno prevedere in occasione della prima variazione di bilancio e o successive o in occasione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 un impegno economico a sostegno del programma di aiuti umanitari per gli ospedali di Gaza allora nella fattispecie questo digine di esclusione assomiglia sempre di più a una emozione che a un ordine del giorno la prima cosa che si chiede alla nostra amministrazione è di finanziare un generico progetto perché qui non c'è nulla di specificato generico progetto di aiuti umanitari per gli ospedali di Gaza Gaza ha 36 ospedali tutti finanziati da enti stranieri religiosi o dall'urva quindi non è chiaro questi soldi che verrebbero chiesti alla cittadinanza per cosa servirebbero a chi sarebbero elargiti per fare cosa non ci è dato sapere guardando ad altri progetti simili fatti da altri comuni si evince che i fondi solitamente sono elargiti ad associazioni espressioni del territorio che hanno progetti di cooperazione internazionale con budget scopi e beneficiari ben definiti nulla di tutto questo si può leggere in questo DG vago e superficiale il desiderio di vivere in pace tra i popoli ci appartiene come civici ma ancora prima come persone la guerra non è mai la risposta è solo morte distruzione e sofferenza indipendentemente da chi la inizia e del perché lo faccia non c'è problema che non si potrebbe risolvere diplomaticamente se ve ne fosse la volontà umana prima ancora di quella politica nonostante le buone intenzioni espresse con questo DG per ragioni citate in precedenza credo che ci risulti impossibile da provare grazie altri interventi in aula parola consigliere Vincelli grazie grazie presidente allora c'è una frase di Sant'Agostino che porto sempre con me già proprio dal 2017 ed è siate dunque pacifici anche combattendo per condurre con la vostra vittoria coloro che combattete alla felicità della pace e su questo penso che siamo abbastanza d'accordo anche con la minoranza il problema però si pone su una questione chiaramente tecnica che non possiamo rendere chiaramente legittimo quello che effettivamente di grande bontà da parte del consigliere Cagliani come primo firmatario porta qui all'interno di quest'aula perché effettivamente faremo chiaramente un illecito io ripropongo al consigliere Cagliani di riproporlo chiaramente come emozione di portarlo effettivamente all'interno dell'aula poi io ringrazio la consigliere Pagani che mi dà l'opportunità di parlare visto che Sesto San Giovanni visto che questa amministrazione fuori dalle sue mura non fa nulla io invece direi che Sesto San Giovanni l'amministrazione siamo il primo comune d'Italia che già dal 2022 porta avanti insieme a un progetto Bridge of Trust con l'Europa e con l'Ucraina proprio con l'Ucraina proprio con alcuni comuni dell'Ucraina che abbiamo ospitato qui a giugno del 2023 proprio per dare un aiuto un contributo in documentazioni in strumentazioni in progettualità pensando proprio alla ricostruzione da parte da parte dell'Ucraina e siamo sempre stati vicini anche in particolare sia a Lozova che a Rommi dove addirittura a Rommi ultimamente è stata bombardata una scuola e purtroppo sono venuti chiaramente a mancare il preside e altri due tre i suoi collaboratori grazie a Dio dico non c'erano non c'erano all'interno della scuola gli studenti quindi vede consigliere Pagani e anche gli altri noi siamo molto molto presenti su quello che riguarda la pace in Europa e siamo anche presenti su quello che effettivamente è il conflitto purtroppo che non c'è solo in Medio Oriente che ormai dura da 50 anni a questa parte siamo sempre presenti e vogliamo essere presenti in tutte quelle situazioni di conflitto o tra stati o all'interno chiaramente di uno Stato dove comunque prevalga un regime totalitario come abbiamo visto a Cina in Cina in particolare su Hong Kong da parte chiaramente della Cina o come stiamo effettivamente affrontando quello che è il problema di Taiwan cioè noi siamo sempre presenti perché comunque sia come stesso San Giovanni e come chiaramente consiglieri abbiamo fuori da Sesto fuori da queste mura abbiamo una particolarità che siamo anche presenti attraverso anche dei partiti e quindi questi partiti sono anche presenti nel portare avanti testimonianze e portare avanti quello che è per noi una questione chiaramente di pace grazie grazie a lei altri interventi consigliere Cagliani ha la parola grazie presidente beh guardate io non voglio fare una classifica di chi meriti di più il nostro intervento io ho solo colto al volo questo invito che è stato fatto a tutta la città di Sesto San Giovanni coinvolgendo anche il consiglio comunale almeno se non per la parte del contributo che ogni privato se decide lo fa c'è tanto di riferimento eh sull'invito con tanto di nome della persona se questo è il problema c'è il riferimento dell'associazione il riferimento della signora che è la responsabile per raccogliere l'invito io propongo ripropongo a voi questo ordine del giorno collegato all'amministrazione non commettiamo nessun illecito nel momento in cui invitiamo l'amministrazione a valutare la possibilità di un contributo o l'idea di mettere insieme un gemellaggio o un patto d'amicizia con il villaggio non è un illecito è un rispondere all'invito che arriva permettetemi di citarlo ad esempio da Papa Francesco che su questo insiste 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 ogni giorno a ogni occasione per dire che bisogna che si fermino quelle persone che bisogna costruire delle comunità dove il conflitto che io non nego perché nessuno qui di noi vive sulle nuvole il conflitto esiste ci sarà sempre è la gestione del conflitto che pone problemi cioè è la gestione non si può pensare che sia la guerra che purtroppo porta la pace perché non è mai stato così ma lo dice la storia non siamo noi dei pacifisti ingenui è la storia che dice che chi crede ancora che la guerra sia l'unico strumento per portare la pace è un illuso è la storia perché noi abbiamo studiato la storia è una serie infinita di guerre quindi vuol dire che abbiamo avuto dei periodi di tregua ma l'unica pace che abbiamo avuto qui in Europa è stata dopo la seconda guerra mondiale ma perché perché siamo riusciti non io per carità chi era chi aveva un'età diversa dalla mia naturalmente sono riusciti a creare quell'idea a dare corpo a quell'idea che si chiama Europa e allora ha messo insieme più stati dove i conflitti vengono discussi lì all'interno del Parlamento cosa credete se non ci fosse stata l'Europa probabilmente avremmo già dichiarato guerra alla Francia alla Germania per altri motivi in questi anni perché guardate che certi problemi i problemi dai migranti o il problema economici dei rapporti economici tra stati sono arrivati a volte a punti di frizione tale che si presupponeva ed era possibile la guerra ma non quando tu hai creato un Parlamento europeo guardate che anche l'Italia è fatto da una serie di staterelli fino a 150 anni fa e che litigavano tra di loro il Ducato di Parma con la Repubblica pensate alle Repubbliche Marinare hanno litigato per anni Genova Amalfi Pisa Venezia poi hanno inventato un ente superiore lo Stato Italia e non è più possibile litigare si litiga per la squadra di calcio ci si prende a pugni meglio per la squadra di calcio ma non si litiga più ma perché è stato organizzato un ente superiore e che era quello che poi a livello mondiale dovrebbe essere l'ONU quindi è questa la strada da percorrere questo villaggio sta cercando di fare questo cammino con pochi bambini in una piccola realtà dove vivono dei massacri continui niente io vi rinnovo l'invito poi torno a ripetere decidete secondo coscienza se vi è possibile non per appartenenza ai partiti o non per un problema tecnico visto che cita Sant'Agostino voi sapete che nel Vangelo si dice che non è l'uomo per il sabato anzi chiedo scusa non è il sabato per l'uomo ma è l'uomo per il sabato quindi l'ha già detto qualcun altro prima di me molto meglio grazie altri interventi in aula passo la parola a consigliere Molteni grazie presidente velocissimo io penso che nessuno possa mettere in discussione la bontà dell'ideale che c'è sotto nessuno qui è a favore della guerra o dice ha ragione chi ha scatenato perché 50 anni che vive nella striscia di casa ha ragione invece chi poi adesso sta bombardando nessuno e della bontà dell'esperimento che questo villaggio sta portando avanti da tanti anni pare anche con un discreto successo è proprio il passaggio tecnico che ci mette in difficoltà per quello che capisco io di bilanci non posso vincolare così una una voce di spesa che mi hanno correggetti io non sono avvenso a parlare di bilanci se non seguendo una procedura corretta è solo quello poi dopo la coscienza e qui richiami sempre la coscienza io come Mario Molteni la mia coscienza fa sì che io possa avere delle idee a riguardo come ruolo amministrativo chiamiamo questo termine però devo anche tutelare quello che è una corretta procedura ecco è quello che volevo poi dopo perché nessuno dice sono contrario perché sei un guerraffondaio o perché non hai a cuore i bambini di Gaza o i coloni che sono i coloni gli ostaggi no no assolutamente questo non è giusto fare un diciamo chiamiamolo ricatto morale di questo tipo no non è esatto come parola spero di essere riuscito a esprimere il punto di vista grazie sono stato velocissimo grazie consigliere Molteni se non ci sono altri interventi in aula procediamo con la votazione di quest'ordine del giorno come dicevo prima dobbiamo andare per alzata di mano facciamo prima i presenti in aula e poi interpelliamo giustamente chi da remoto alzate la mano chi è contrario a quest'ordine del giorno favorevoli adesso da remoto consigliere Ghetsi consigliere Ghetsi se può collegarsi anche in video per alzata di mano consigliere Pogliaghi provi lei consigliere Ghetsi ci sente prendiamo solo un secondo dopodiché potete scrivere nella chat il voto sanitario dovremmo vedere prego si era minato si era cupido si mi sentite voto contrario grazie grazie consigliere Ghetsi consigliere Pini consigliere Ghetsi nella chat dichiara contrario anche la consigliere anche la consigliere Milazzo vuole Ghetsi vuole dire qualcosa mi scusi presidente questa è una mia specie di rivalza personale la chat vale quindi come verbalizzazione del voto perché è quattro consigli che lo chiedo e quattro consigli che non ricevo risposta se oggi vengono accettati i voti tramite chat c'è un problema non vengono accettati non siamo in grado di gestirla allora in questo caso in questo caso abbiamo 14 voti contrari pardon e 7 voti favorevoli quindi l'ordine del giorno viene respinto mettiamo a verbale a cupido a cupido quindi 13 contrari 13 contrari no no sono 13 voti contrari 12 più la cupido che è riuscito a esprimere il voto da remoto e 7 voti contrari ma non usiamo la chat in questo caso eh sì presidente mi sente segretario prego presidente mi sente attenzione attenzione siamo adesso in video sì grazie la sentiamo io sono contrario a questo eh ordine del giorno ok consigliere cupido l'aveva già dichiarato consigliere appini allora a questo punto non partecipano al voto abbiamo abbiamo detto dodici voti favorevoli contrari pardon contrari in aula più due voti contrari da remoto sono 14 e sette voti favorevoli quindi l'ordine del giorno sei perché la Milazzo non è riuscito a esprimere il voto quindi sei voti eh favorevoli l'ordine del giorno viene bocciato 14 contrari e sei favorevoli l'ordine del giorno numero 4 viene bocciato passiamo adesso all'ordine del giorno numero 5 sempre primo firmatario consigliere Cagliani al quale passo la parola per la presentazione grazie presidente allora questo ordine del giorno è frutto di una iniziativa da parte del comitato cittadini quartiere rondò torretta ci avevano invitati a fare una camminata nella loro zona che è piazza Trento Trieste rondò via Marconi e quella zona lì per per sincerarci della situazione di degrado che lamentavano in quella zona ma non solo di degrado di carattere abitativo di degrado di carattere sociale e di episodi di micro criminalità sono intervenuti diversi consiglieri di minoranza o di opposizione come meglio credete ma anche di maggioranza c'erano diversi consiglieri abbiamo anche chiacchierato con loro sui fatti successi lì direttamente nella piazzetta del rondò e abbiamo condiviso con loro le loro paure e la loro preoccupazione rispondendo loro anche che di sicuro nel momento in cui avvengono episodi di criminalità il primo intervento non può essere che un intervento di carattere repressivo perché laddove vengono commessi dei reati è logico che interviene l'autorità competente perché la cosa non avvenga non si ripeta ma di sicuro non può essere l'unico intervento per poter portare alla normalità quella zona quella zona di degrado e quindi abbiamo accennato alla possibilità che lì dove insiste ancora attualmente il vecchio cinema Elena si possa venire oltre che una abitazione un palazzo si possa ricavare al di sotto di questo palazzo il primo piano pian terreno uno spazio dove sia possibile fare memoria di quella che era l'attività di quel territorio quindi del cinema Elena che faccia memoria di un'attività culturale che lì si svolgeva e che era un cinema di riferimento per moltissimi di noi all'epoca perché era un cinema tra l'altro centrale per quanto riguarda la città non so se riusciremo a realizzare tutto questo però però gliel'abbiamo detto insomma perlomeno gliel'abbiamo accennato loro hanno ci hanno consegnato in quella sede un documento che vi evito di leggere ma che molti di voi avranno ricevuto a loro volta in cui sollecitavano l'amministrazione adesso la semplifico la cosa sollecitavano l'amministrazione a farsi carico di questa loro preoccupazione di questo loro disagio e a mettere in campo delle iniziative che potessero perlomeno limitare contenere se non evitare contenere questi episodi di degrado sociale tipo l'occupazione del suolo pubblico a condizioni agevolate con dei deor per quanto riguarda le attività commerciali che insistono in quella zona via Solferino piuttosto che Rondò stesso in modo tale che appaia un'occupazione del territorio da parte di attività normali e impedisca che questo territorio che alle 6 ha detta addirittura di alcuni commercianti della zona tirano giù la clare perché hanno paura e quindi dalle 6 in poi sia terra di conquista di chi ha la voce più grossa chiedevano appunto a noi di fare qualcosa di intervenire ma chiedevano anche solo di poter eventualmente incontrare l'amministrazione e il responsabile l'assessore competente per materia in modo tale da valutare insieme quali sono i mezzi per poter intervenire su questo problema io non ho fatto altro che mettere in due righe quello che loro hanno messo su tre fogli e lo sottopongo al vostro al vostro giudizio grazie grazie a lei passo la parola al sindaco sì grazie presidente ma questa è sulla falsa rega di quella di prima le richieste del comitato le abbiamo ricevute le abbiamo affrontate con buona parte dei loro rappresentanti stiamo incontrando però che c'entra col bilancio io penso che prima la delibere di prima siamo riusciti a parlare del ducato di parma e delle repubbliche marinare sul bilancio previsionale 2024 del comune di sesto ora stiamo parlando della riqualificazione di un quartiere degli incontri che fa l'amministrazione con un comitato che c'entra col bilancio di previsione evidentemente c'è perché non la sottovaluto mai considera c'è una chiara volontà di non parlare di quelli che sono i risultati di 129 milioni di euro di investimenti che stanno partendo sul territorio c'è la volontà di non parlare degli aumenti delle risorse sulle attività ricreative del territorio sulla riflessione scolastica sull'incremento delle risorse su le disabilità sia sociali che scolastiche l'incremento delle risorse sugli anziani c'è la volontà politica di distrarre uno strumento di distrazione di massa sono questi ordini del giorno che con il bilancio non c'entrano nulla che c'entrano che tra l'altro sono delle emozioni questa anche questa è un invito al sindaco affinché incontri che già si sta facendo come ha detto lei benissimo anche consiglieri comunali erano presenti lo sappiamo benissimo stiamo fornendo tutte le risposte ma questa è una mozione non è un ordine del giorno io e tra l'altro anche il contenuto se entriamo nel merito dell'ordine del giorno valutare in accordo con gli stessi soggetti sovracitati la modifica e l'integrazione del piano generale degli impianti pubblicitari e tra l'altro se andiamo a vedere il piano generale gli impianti pubblicitari non prevede come dice lei episodi di microcriminalità il piano generale degli impianti disciplina la materia relativa agli impianti stessi la loro collocazione nel territorio nel rispetto della compatibilità ambientale urbanistica quindi ha scritto un ordine del giorno che non c'entra niente con la delibera non c'entra nemmeno con i contenuti dalle stesse citate all'interno dell'ordine del giorno con gli impianti pubblicitari sinceramente io ritengo che sarebbe opportuno portare la discussione ma nel rispetto del Consiglio Comunale al tema del Consiglio Comunale al tema dell'ordine del giorno se poi vogliamo parlare del Ducato di Parma delle Repubbliche Marinare faccia pure a questo punto apro la discussione in merito a quest'ordine del giorno ricordo cinque minuti per ogni gruppo consigliare passo la parola alla consigliera Pagani Sì grazie Presidente intanto è curioso sentire che ci sono delle operazioni che sono come dire di distrazioni di massa che presuppone che tu hai la capacità di distrarre delle masse quando poi per tutta la sera come dire siamo stati redaruiti di essere rappresentativi di percentuali insignificanti quindi appunto come dice il sindaco dipende da come le guardi le cose e da come le racconti e da dove poni l'accento sulle questioni mi spiace che non non sia chiaro l'ordine del giorno che io ho inteso così come è stato scritto dal consigliere Cagliani insomma presentato dal partito democratico che è frutto di quell'incontro passeggiata chiamiamola così urbana che abbiamo fatto tanti consiglieri sia di maggioranza di opposizione e pensavo anche che ci fosse stata scusate faccio un po' fatica capisco però magari mi fermo un attimo perché adesso non è che voglio essere chiediamo un attimo un attimo prego se la pagani io scusa sì sì grazie presidente non era in forma polemica ma solo cercare di prestare attenzione a delle questioni quando abbiamo fatto questa diciamo passeggiata urbana il comitato torretta ha elencato una serie di misure che secondo diciamo così il comitato che è composto da più persone potevano aiutare e agevolare diciamo la rimessa in moto del quartiere tra cui la possibilità di avere o dei costi esentati o particolarmente agevolati sia per quanto riguarda le richieste di occupazione suolo da parte degli esercenti del quartiere noi abbiamo avuto la testimonianza addirittura di un esercente che ci ha detto che chiude l'orario chiude il negozio ancora prima dell'orario di chiusura che più tardi delle 6 non si permette di tenere il suo negozio aperto perché ha paura fisicamente e ovviamente parliamo di realtà diverse l'occupazione suolo si riferisce agli esercizi commerciali che è un bar che è una pizzeria quegli spazi che diventano condivisi all'interno del territorio che aiutano ad essere un presidio sociale e tra l'altro ci hanno sottolineato qua credo che facesse credo poi il consigliere Cagliani parlerà naturalmente anche per sé ma che facesse riferimento a questo al fatto che anche solo pubblicizzare delle iniziative che vengono organizzate da parte del comitato ma non solo del comitato ma da parte di tutti attraverso dei volantinaggi comporta un costo e per un comitato che è come dire nato da poco che sicuramente non ha risorse economiche perché è il frutto dell'insieme di cittadini volontari che cercano di occuparsi del territorio quindi un aiuto da questo punto di vista sarebbe stato molto apprezzato queste sono alcune delle proposte che questo comitato ha fatto e che credo di intendere che siano state poi tradotte nell'ordine del giorno non credo che si parlasse un po' di ordine in aula per favore non credo che si parlasse di cavoli a merenda o cose affine adesso non ricordo insomma Ducati ecco sì Ducati credo anche che sia come dire poco cortese dal punto di vista istituzionale assumere un tono di questo tipo da parte del sindaco perché cioè umiliare le persone e i consiglieri non è sicuramente un atteggiamento che un primo cittadino dovrebbe avere grazie grazie a lei vedo la richiesta di parola da parte del consigliere Appini alla quale passo appunto la parola consigliere appini consigliere Vassecchia le la parola grazie presidente ero uno dei consiglieri di maggioranza che ha partecipato a quella camminata visto la sollecitazione che il neocomitato per un dottor retta ha rivolto a tutti noi mandando un invito personale a partecipare ci tenevo a essere presente primo perché mi piace dialogare e conoscere realtà proprio sul territorio e anche perché sono un po' coinvolto proprio in quel quartiere gestendo un'attività sociale che è quella di Libri Aperti che è il Book Crossing con cui poi mi sono relazionato con il presidente del comitato cosa dire abbiamo fatto un bellissimo percorso serrale notturno un po' al freddo devo dire dove ci siamo scontrati con delle realtà che in realtà conoscevamo perfettamente quindi non è che sia stata una sorpresa abbiamo trovato quindi questo comitato l'abbiamo conosciuto un gruppo di cittadini che ci ha seguito durante questo percorso devo dire però mi sembra che questo comitato stia dialogando adesso con l'amministrazione perché ho visto un volantino adesso promozionale di uno degli eventi dove addirittura collaborando con la Proloco ci sarà un'inaugurazione con addirittura sponsor e tutto di un albero di Natale l'impiata Trento Trieste quindi mi sembra che appunto questo comitato abbia in questo momento un ascolto con l'amministrazione per quello che riguarda le esigenze che hanno loro in questo momento grazie grazie a lei consigliere Balsecchi passo la parola al consigliere Montrasio grazie presidente saluto tutti i presenti e anche chi ci segue da casa il cortiere rondotto retta lo conosco un po' perché ho lavorato 40 anni quello che prima tu Cagliani lo ricorda posso darti del tu? tu Cagliani sei più o meno mio coetaneo di età ti ricordi il vecchio credito italiano sulla piazza del Rondò ho lavorato lì quindi ecco e poi siamo passati in via Breda e il sottoscritto nella sua attività modesta per carità ripeto io sono sesto una città che amo perché mio papà come il tuo non lavoravo alla Farco ma all'Ercole Marelli facevo l'operaio non sono un figlio di industriali sono un figlio di modesti lavoratori dell'Ercole Marelli non ho mai giocato a golf giocavo a bocci Cagliani tu sai dove potrei arrivare allora in quella zona per tornare al tema della marcia dei cittadini il sottoscritto ha avuto ben due rapine in quel periodo l'amministrazione non c'era il sindaco Roberto Di Stefano c'era un altro sindaco non mi ricordo chi era della sinistra perché siete stati 70 anni a Sesto San Giovanni al comando di Sesto San Giovanni non mi è mai venuto in mente di dare la colpa a chi gestiva il comune perché sono stato rapinato due volte sappiamo che purtroppo nella società c'è chi si comporta bene chi si comporta male poi bisogna vedere gli strumenti per evitare che un operaio come il sottoscritto non abbia una portella una rivoltella puntata al collo come ho avuto io e a questo chi deve pensare dovrebbe pensare la politica nazionale e anche quella locale infatti il signor sindaco sa quanto io premi sulla polizia locale qui presente che ringrazio perché ultimamente ho avuto bisogno di loro in strada e sono stati bravissimi no? però li vorrei vedere tanto sulle strade perché questo vogliono i cittadini io non so io frequento le persone modeste al supermercato sono una persona normalissima nessuno sa che sono consigliere perché non ho problemi di farmi propaganda politica alla mia età poi figurati che bisogno ne ho e sento che l'esigenza delle persone è la sicurezza la sicurezza proprio dei pensionati di quelli che vengono scippati sul metro che vengono scippati davanti al gigante sotto casa mia quelli che vivono nella zona della piazza Trento Trieste e io mi ricordo però un intervento e questo mi dispiace perché adesso sento stasera parlare anche della minoranza della sicurezza ma mi ricordo che siamo stati un po' presi per i fondelli perché abbiamo incrementato le telecamere sulla città i miei rapinatori li hanno arrestati perché la banca aveva le sue di telecamere se no non le avrebbero mai presi poi il processo l'ho fatto 4 anni dopo e non so neanche come è andato a finire molto probabilmente avranno trovato qualcuno che li ha anche tirati fuori velocemente perché poi se ammazzavano me un lavoratore di meno se per caso qualcuno ammazzava il bandito magari doveva risarcire il bandito con 500 mila euro comunque ribadisco va bene tutto però ricordiamoci come si vota in consiglio comunale quando si parla di sicurezza di telecamere di tutte queste cose qui poi mi permetto di aggiungere che stasera stavamo parlando di bilancio e secondo me queste ordine del giorno sono un po' una distrazione su quello che è il bilancio non vedo con la centra del comitato Rondotorretta col bilancio che dovevamo provare questa sera con questo ho terminato vi ringrazio e abbiate pazienza se vi ho disturbato troppo passo la parola al consigliere chezzi si sente si la sentiamo prego buonasera si scusate io voglio solo fare un intervento incisivo per quanto riguarda il metodo politico con cui mi permetto di criticare le modalità con cui sono stati presentati soprattutto questi ultimi due ordini del giorno quello inerente una questione così delicata come la questione della pace e della guerra che purtroppo c'è in questo periodo e così come anche questo dei comitati che è una delle cose a cui personalmente sono particolarmente in posizione di ascolto non tanto del comitato quanto dei singoli individui che sanno benissimo di trovare in me una persona che può ascoltare perché dico questo perché questa sera questi ordini presentati così questi ordini del giorno che potrebbero avere sicuramente una valenza incisiva sul territorio perché non dimentichiamo che anche i vari pattugliamenti che l'amministrazione ha messo in pista proprio in questo periodo nascono da sollecitazioni che sono arrivate conseguenti proprio allo stato di fatto io vivo in questo quartiere quindi ne subisco anche tutte le come si dice ne subisco anche tutte le le conseguenze diciamo così però quello che è sbagliato è il metodo politico non si presentano degli ordini del giorno che trattano di un gemellaggio che nasce da nascerebbe eventualmente da un percorso fatto innanzitutto di conoscenza anche con l'amministrazione comunale perché allora è evidente che stiamo facendo il giochino degli sgambetti all'ultimo punto per far vedere così sui giornali domani o nei post c'è qualcosa da scrivere almeno si dice che Roberto Di Stefano è contro la pace e Roberto Di Stefano non ascolta i comitati non c'è niente di più falso di questo quindi l'invito che faccio innanzitutto a coloro che più o meno ingenuamente aderiscono quindi attenzione alle strumentalizzazioni e lo dico coran popoli ok quindi lo capiscano bene lo sanno chi coloro che mettono in piedi un po' questo tipo di funzionamenti ma le persone genuine ascoltino bene quello che sto dicendo la possibilità di essere ascoltati c'è c'è un percorso ci sono gli organi c'è una consulta del commercio che guarda guarda ha anche questo scopo quello di mettere a tema delle problematiche concrete che effettivamente si possono mettere sul tavolo perché nessuno dice che sia un tema quello di una tassa più alta o più bassa eccetera però non facciamolo a tre giorni dal Consiglio Comunale su approvazione del bilancio preventivo perché sa veramente di una manovra politica di assoluta bassa grazie grazie consigliere Ghezzi io chiedo scusa è stato errore mio nel non fermare il consigliere Ghezzi in quanto aveva già parlato per il gruppo per la lista di Stefano Sindaco il consigliere Montraso chiedo scusa ma seguendo tutti i vari aspetti c'è stato un intervento con il consigliere Ghezzi di più rispetto rispetto a quanto doveva essere visto che appunto sono 5 minuti per ogni gruppo se volete fare una replica potete fare una replica prego allora intanto rispetto un attimo la scaletta poi teniamo conto di questo provo a passare la parola alla consigliera Pini mi sentite? si la sentiamo prego finalmente tutta sera che cerco di parlare e non riesco a parlare allora mi spiace non essere riuscita a intervenire prima sul sul appunto approfazione del bilancio del bilancio preventivo allora partirei un attimino da quest'ultimo punto che è quello appunto della collaborazione con le associazioni come qualcuno ha già fatto notare c'è già un intervento da parte dell'amministrazione c'è già stato un intervento da parte dell'amministrazione incontri incontri sulla sicurezza alle quali ho partecipato io stessa quindi abbiamo già messo sul tavolo una serie di attività e anche le ultime che sono avvenute nell'ultimo mese sono frutto proprio dell'attenzione che abbiamo avuto nei confronti non solo del comitato ma di tutto il quartiere per cui mi sembra veramente strano che vengano fatte questi appunti in questa sede soprattutto anche perché sono stati ribaditi la sera stessa che è stata fatta la passeggiata è stata ribadita dagli stessi organizzatori che c'era già una collaborazione e un ascolto da parte dell'amministrazione so che ci sono stati anche con l'assessore Pizzocchera e l'assessore Paterna riguardo appunto ai temi che possono essere sociali che possono essere inerenti alla zona e la stessa questo fine settimana questo venerdì così lo ricordo a tutti ci sarà appunto l'accensione dell'albero alle 18 del venerdì di questo venerdì non ricordo la data comunque di questo venerdì e appunto c'è la collaborazione con la nostra Proloco cosa che ho curato io stessa quindi perché in totale serenità l'ascolto prosegue è costante ovvio ci sono delle modalità che sono quelle del chiedono udienza viene assolutamente data udienza e si ascolta chiunque ma che venga qui portato il tema in consiglio comunale in questa maniera bieca scusatemi ma veramente bieca mi lascia veramente basita perché da dove vi viene ne è che non ci sia da parte nostra un ascolto prima di tutto quella sera eravamo presenti anche noi così come era presente qualcuno della sinistra ma qual è il problema abbiamo dato seguito alle loro richieste mi pare assolutamente di sì prova ne è che venerdì ci sarà l'accensione dell'albero prova ne è che c'è già una collaborazione con diversi assessorati in corso ovvio se vogliamo fare speculazione politica non è questa la sede e non ce ne frega assolutamente nulla di dare spazio a chi non vuole ascoltare ma vuole solo provocare quando invece troviamo persone che hanno intenzione di portare realmente delle istanze cittadine la porta è assolutamente aperta e questo l'ho sempre stato punto numero uno quindi spandiamo questa cosa e soprattutto vediamo di evitare di prendere lezioni da quella che è la sinistra visto che abbiamo già avuto il mandato popolare e la legittimazione popolare per amministrare e mi risulta da che mi risulta sta proseguendo senza alcun intoppo poi qualcuno vuole portarlo in consiglio comunale e fare questioni sul nulla questa sera l'ho sentito fare anche sul bilancio più e più volte avete inventato che non abbiamo sono diminuiti gli asili ma dove ve lo siete inventato mi domando io ne ho sentite di tutti i colori proprio quando non c'è nulla da dire inventate per fare che cosa per portare lontana l'attenzione da quello che è in realtà un bilancio che per fortuna ringraziando il cielo grazie al lavoro fatto duro fatto negli ultimi 6-7 anni ha riportato l'ente finalmente a poter fare investimenti a poter vedere una città che cresce quella che non è quella che abbiamo ereditato ferma chiusa stantia sporca cadeva a pezzi la città ve lo siete dimenticati? io non riesco a capire le strade non vengono fatte ritroviamo sui bilanci sempre le stesse cose ma se la viabilità è legata al progetto della città della salute cosa facciamo? creiamo le strade per poi non avere neanche ancora pronti i cantieri ma ha senso? io non capisco e tra voi c'è qualcuno che ha amministrato in precedenza che queste cose le sa quindi veramente continuo a essere assolutamente basita da quello che ascolto qua dentro un qualunque cittadino che ascolti un nostro consiglio comunale lo rendete di un confuso pazzesco perché riuscite a dire tutto è il contrario di tutto i fuochi d'artificio poi vabbè non aggiungo altro invito a chiudere così appini grazie grazie a voi passo la parola al consigliere Molteni grazie presidente no se sarò velocissimo ammetto di cadere anch'io nella nella trappola della disattenzione però una cosina veloce un chiarimento un sassolino un flash me lo devo togliere nelle nei buoni intenti presentati dal prima dal consigliere Cagliani sul quello facendosi portavoce del comitato veniva citato il fatto di favorire la creazione di de or di realtà per per le attività commerciali presenti nella zona ma non più tardi di qualche tempo fa in quest'aula siamo stati accusati di aver tolto le panchine per favorire la creazione di un de or a una nuova attività allora buona la prima o buona la seconda grazie finito per favore per favore altri interventi in aula consigliere foggetta le la parola non vedo l'ora di sapere a che punto mi dirà che sto andando fuori tema presidente faccio partire le scommesse a nessuno perché non ce n'è uno in tema a questo punto parli cinque minuti con tutta serenità consigliere foggetta non la interrompo allora io vorrei partire dal primo punto che vorrei partire da un primo punto e dire che è una boiata dire che questa andrebbe fatta come emozione non come ordine del giorno è permettetemi di dire perché devo rimanere nel politicamente corretto è una boiata è una sciocchezza grazie per avermi dato un termine migliore Mari perché gli ordini del giorno sono degli atti di indirizzo politico che correlati al bilancio alle delibere di cui si sta parlando e mi sembra che la correlazione sia stata approvata sia stata approvata non da Felice Cagliani o da Michele Foggetta ma dal segretario generale come no è stato dichiarato inammissibile no ok chiedo scusa segretario rispondevo al sindaco che mi faceva segno che no non è stata approvata l'ammissibilità è un ordine del giorno più che ammissibile altrimenti non lo staremmo discutendo e dire che non avremmo dovuto farlo avremmo dovuto farlo come emozione è una sciocchezza anche perché vorrei ricordarvi non ci prendiamo in giro ma da quanto tempo sono depositate lì le emozioni cioè voi volete che facciamo emozioni per lasciarle lì e per non discuterle perché poi arriva Vincelli in capigruppo e ci dice che la emozione che abbiamo depositato noi non vale la pena giuste le vostre va bene scusate è una sciocchezza colossale è anche una mancanza di rispetto sindaco anche una mancanza di rispetto nei confronti di questo che è un organo superiore al sindaco e alla giunta poi c'è già un'interlocuzione un ascolto con il comitato di cui si sta parlando benissimo allora perché sindaco questa mozione non l'ha fatta sua e l'ha fatta diventare qualcosa di cui noi non ci saremmo potuti neanche vantare perché non l'ha fatta sua e non trovo sempre divertente è un ODG non è una mozione questo ODG scusatemi non l'ha fatta sua per favore per favore non l'ha fatta sua e così avrebbe portato avanti a quell'interlocuzione quell'ascolto di cui di cui tanto parlate perché mi sembra che la paura sia di dover condividere anche con l'opposizione quello che di buono c'è in questa mozione in questo ordine del giorno a me la paura è questo poi si farà sono abbastanza certo che quello che è richiesto in questo ordine del giorno si farà ma domani potrete dirlo che è tutto squisitamente vostro sento la consigliera Pini dire che voi avete avuto la legittimazione dalle ultime elezioni e mi va bene ma quindi questo che cosa vuol dire che quindi noi dobbiamo fare silenzio perché voi siete legittimati perché questa cosa ritorna spesso noi abbiamo vinto quindi ecco questa è una cosa di cui io penso che chi la dice si dovrebbe anche un attimino ogni tanto vergognare ultima cosa per 70 anni qui la sinistra non ha comandato ha governato quelli che comandavano Assesso San Giovanni erano quelli che c'erano prima dei 70 anni della sinistra che anche soprattutto grazie alla sinistra sono stati cacciati a calci non l'ho interrotta come vedo altri interventi in aula consigliere Vinceli ha la parola grazie presidente beh sarò molto molto veloce allora innanzitutto la questione dell'ordine del giorno è una cosa molto chiara se volevate presentare l'emendamento forse era la cosa era la cosa migliore così scritto tecnicamente non può essere chiaramente accettato chiaramente almeno in quanto in quest'aula il contenuto di quello che effettivamente c'è all'interno dell'ordine del giorno camuffato mozione dite quello che volete e noi lo stiamo già attuando noi lo stiamo già attuando quindi non abbiamo bisogno Foggetta consigliere Foggetta non abbiamo bisogno chi era presente in quell'occasione e anche prima perché io sono sempre abbastanza su quel territorio perché ho due tre amministratori e chissà perché effettivamente proprio ho raccolto da parte di quei tre amministratori no le petizioni di firme da parte dei cittadini e quindi si è autoalimentata chiaramente questa protezione sulla zona ma è una cosa molto storica perché quella zona è sempre stata in quel modo perché è stata concepita dalle amministrazioni precedenti scusate proprio perché c'era la presentazione c'era la era presente chiaramente le i fabbricati aler e quindi sono stati mandati effettivamente da quella parte gli emigranti quindi quella questione effettivamente una questione molto molto precedente su quel territorio siamo presenti da un anno e mezzo non da oggi non da oggi da un anno e mezzo perché in situazione da parte chiaramente del comune di Milano che sbologna delinquenti e alcuni immigrati effettivamente clandestini purtroppo chiaramente si riversano sulla questione della periferia detto questo io mi farebbe molto piacere che il 22 il 22 alle ore 18 ci fosse presente anche il consigliere Foggetto che mi sembra che mancava l'altra volta era presente il consigliere Cagliani consigliere Gatti e la consigliere Canete Pagani magari tutti insieme diamo una svolta a quello che sarà Trento Trieste perché faccio presente anche Maderloli faccio presente che per quanto riguarda la riqualificazione quella piazza di Trento Trieste all'interno di questo bilancio di previsione è indicata è citata per 550.000 euro e il 30 chiaramente il 30 settembre probabilmente inizieremo chiaramente anche i lavori quindi questa risposta è una risposta proprio oltre a quello che è stato da parte della sicurezza che poi meglio potrà effettivamente ribadire il concetto e quello che è stato chiaramente fatto l'assessore Inilco grazie grazie a lei passo la parola al consigliere Cagliani se deve andare qualche minuto oltre o raddoppiare al tempo oppure avrà il consigliere Gatti anche possibilità di avendo fatto prima l'errore grazie prego no no non la faccio molto lunga ci stanno certi interventi con un sottofondo di livore nei confronti del sottoscritto perché mi pare di capire che voi pensiate che io voglia fare il capopopolo del comitato cittadino di Rondotto ma guardate io il fisico non ce l'ho per fare il capopopolo e non è neanche il mio stile io ho solo preso il documento che mi è stato dato in quella camminata non ho mai più visto nessuno non ho mai più sentito men che meno l'amministrazione e ho detto va bene lo porto in consiglio comunale non ho capito perché mi hanno dato il documento se mi hanno dato questo documento è perché avevano piacere che magari io lo porto io sto facendo il consigliere comunale dove lo porto in lavanderia lo porto nel consiglio comunale è tutto qui non fatevi un cinema che non esiste non fatevi un cinema perché non esiste se voi già avete messo in campo delle iniziative sulle quali io personalmente non ne so nulla bene potete votarlo perché intanto le avete già fatte queste cose oppure potevate dirmi prima guarda che quelle robe lì le abbiamo già fatte noi può darsi che io a questo punto dico sento il comitato e ritiro l'ordine del giorno perché magari qualcuno di loro ha saputo che lo presentavo però guardate che lungi da me l'idea di fare il capo Paolo qui mi è stato detto eh lì la situazione disastrata e c'era qualcuno che faceva l'assessore prima chissà chi era questo qualcuno chissà chi era la consigliera Pini ha detto questa è una situazione bieca bieca ma cosa vuol dire bieca cioè ragazzi ma le parole hanno un senso bieco obliquo torvo dell'occhio o dello sguardo che rivela malanimo o astio ma dove è malanimo o astio questo vuol dire bieco io ho presentato un ordine del giorno tra l'altro le parole che ci sono nell'ordine del giorno sono le parole scritte dal comitato non sono neanche mie non sono neanche mie e mi si dà del bieco vabbè ci sta per carità quando uno fa politica non uso certe espressioni che usavano certi politici che erano molto volgari però so che sono disponibili a tutto una sola cosa anche al sindaco visto che nel suo intervento iniziale ha detto qui si è sentito parlare di repubbliche marinare di ducato di parma signor sindaco a lei magari la storia non piace a me a scuola hanno insegnato che soprattutto su certi temi fondamentali quali sono quelli della pace e quali sono della dignità delle persone e la storia è maestra di vita e allora quando c'è un problema di cui non si trova la soluzione vado a vedere nella storia che cosa ha fatto l'uomo prima di me grazie grazie a lei passo la parola al consigliere Gatti lo faccio se nell'opposizione siete d'accordo perché prima ha parlato due volte la lista di Stefano sindaco Montrasio e Ghezzi quindi per par condicio do l'intervento anche al consigliere Gatti questo è completamente prego Gatti nella parola no però magari chiedere qualcos'altro dopo chiediamo prego Gatti a lei grazie presidente ma intervengo con dopo l'intervento secondo me già esaustivo e perfetto del consigliere Cagliani per ribadire due cose la prima è che siccome tutti qua noi siamo stati eletti per fare i consiglieri comunali vi svelo un segreto noi siamo eletti per fare politica non per fare i passacarte politica dire questa cosa non la votiamo perché è politica come qualcuno di voi ha detto prima è obiettivamente l'abnegazione più grande a aver smesso di fare il consigliere comunale io credo che su questo non ci sia neanche da discutere e ci tengo a sottolineare che nell'odg che abbiamo presentato dove si raccoglie il documento che è stato dato a tutti i consiglieri comunali che erano presenti alla camminata non è che è stato dato a noi e a voi è stato dato a tutti ci sono elencate delle proposte delle proposte che il comitato fa proposte che noi non abbiamo ripreso nell'interezza perché? perché leggendo l'odg c'è scritto che si vuole invitare impegnare la giunta a incontrare il comitato e trovare all'interno di queste proposte che richiedono variazioni di bilancio per questo è un odg allegato al bilancio perché se si parla dell'occupazione del suolo pubblico è bilancio se si parla della valutazione del costo che hanno i volantinaggi per le associazioni è bilancio non è un'altra delibera è questa delibera sono le proposte che ha fatto un comitato questo è un ordine del giorno che ha valore politico dove noi chiediamo semplicemente alla giunta di andare a parlare con un comitato questo non è qualcosa di alieno a un consiglio comunale questo rientra pienamente all'interno del consiglio comunale e io devo essere sincero sono molto stupito perché a questa all'assemblea che c'è stata pubblica al cammino c'erano consiglieri in ugual misura di maggioranza e di opposizione che hanno avuto durante questa passeggiata degli scambi informali non legati al consiglio comunale ma dove tutti c'era l'accordo che per quel quartiere bisogna fare di più ora che qualcuno di voi ci dica che per quel quartiere siete attivi da un anno e mezzo quando un mese fa c'è stata una passeggiata dove sono stati evidenziati dei problemi significa che o non siete coscienti di qual è la realtà del quartiere o che siete semplicemente in mala fede nelle dichiarazioni di questa sera scegliete voi quale delle due perché dire che ci state lavorando è credibile dire che avete trovato delle soluzioni no e non è che dovete convincere me che comunque quel quartiere lo vivo tanto quanto alcuni altri consiglieri perché abito anche io lì ma dovete dirlo ai cittadini e a tutti i comitati questo come gli altri che si sono creati in questi anni che il problema lo avete già risolto e poi voglio vedere come vi rispondono dire che invece bisogna continuare a parlare con i comitati anche se ci sono già delle soluzioni in campo anche se già è iniziato un dialogo non è un'aggiunta inutile è il senso che questo consiglio comunale si prende una responsabilità che è politica e mi direte beh ma forse la mozione è meglio la mozione dirci che questi ODG vanno considerati come non è un io ho detto mozione perché alcuni suoi colleghi hanno detto mozione consigliere Vincelio dire che noi non possiamo presentare questi ODG perché sono delle mozioni mascherate e signori e signori consigliere vi state nascondendo dietro un dito perché lo sappiamo tutti che le mozioni non si discutono in quest'aula da mesi la prima mozione che forse discuteremo domani è della consigliera Pagani e poi ce ne sono due vostre neanche di opposizione due mozioni vostre che sono lì che giacciono inascoltate da gennaio gennaio ci dite presentate la mozione e vi dirò domani la presenteremo e ve la manderemo anche chiedendo di sottoscrivere quello che ci chiede il comitato poi vediamo se la firmate poi vediamo cosa dite al comitato ma una volta che presentiamo la mozione io mi auguro di vedere anche le vostre firme quanti anni prima che si discuta? Allora chiede la parola al consigliere Appini che naturalmente non può parlare avendo già fatto l'intervento do un attimo la parola prego Sera Appini mi sentite? si prego deve dire qualcosa non può fare un intervento in merito però l'ha già fatto no no io non faccio un intervento in merito probabilmente sono state travisate completamente le mie parole mi sono state attribuite delle affermazioni che io non ho assolutamente fatto non con quella con quello spirito che è stato quindi qual è la richiesta? la richiesta semplicemente è che in consiglio comunale per fatto personale dobbiamo discutere la fine discussione quindi non ho capito cosa devo fare se mi fa una richiesta per fatto personale la dobbiamo discutere terminata la discussione non adesso allora discutiamola dopo mi sono state attribuite delle affermazioni non corrispondenti va bene va bene dopo le do la parola allora per fatto personale passo la parola grazie a lei passo la parola al consigliere Foggetta però l'ha già parlato consigliere Foggetta vabbè alla fine discussione mi direte poi le motivazioni altri interventi allora in questo caso terminata la discussione chiedo scusa se può ok terminata la discussione sull'ordine del giorno in questione passiamo appunto alla votazione dell'ordine del giorno numero 5 che abbiamo appena discusso in questo caso procediamo sempre per alzata di mano quindi parto naturalmente dai presenti in aula contrari ok favorevoli adesso passiamo da remoto consigliera Milazzo mi chiede la parola per favore a lei favorevole consigliera Pini mi chieda la parola per favore prego Cera Pini favorevole o contraria consigliere Ghezzi proviamo con lei contrario si è sentito si grazie contrario consigliera Cupido prego si è sentito presidente si è contrario è vero grazie ok grazie consigliera Pini a lei la parola niente se è appena non si sente ora mi sentite adesso si prego scusi ma mi sono proprio persa il passaggio prego siamo al voto si al voto dell'ordine del giorno contrario giusto ha detto contrari certo ok consigliere Pogliaghi chiedo scusa non l'ho vista entrare ha già perfetto grazie scusate ma questa sera questi ordini del giorno o mozioni come volete chiamarle voi credo un po' qualche problema allora chiedo scusa procediamo con la conta quindi abbiamo 16 voti favorevoli guardò 16 voti contrari 7 favorevoli l'ordine del giorno numero 5 viene bocciato passiamo all'ordine del giorno numero 1 a firma della consigliera Pagani al quale passo la parola per la presentazione sì grazie presidente allora la prima specifica è che l'ordine del giorno ha due firmatari il primo firmatario sono io il secondo firmatario è Felice Cagliani del partito democratico che ringrazio per aver lavorato insieme su questo ordine del giorno che parte sostanzialmente da questo presupposto parte di questa discussione è già stata fatta nel bilancio di previsione anche in altri consigli comunali e c'è anche una mozione insomma che presumo e spero discuteremo domani nel secondo consiglio comunale che è stato convocato che riguarda sostanzialmente il fondo sostegno affitti e il fondo di morosità incolpevole che sono due fondi che sono sempre stati due fondi importantissimi per tutte le amministrazioni comunali perché erano fondi sono fondi che vengono erogati sostanzialmente dallo Stato in parte dalla Regione e che sono sempre stati come dire un sostegno importante per affrontare tutti quelli che sono le difficoltà e le problematiche legate alle povertà abitative o meglio alle povertà delle persone che non riescono ad affrontare a sostenere dal punto di vista dell'affitto le spese a bilancio diciamo al bilancio familiare oltretutto con il bilancio con la legge di bilancio del 2023 il Governo ha zerato di fatto entrambi i fondi mettendo dal nostro punto di vista anche in difficoltà le amministrazioni comunali perché davvero questi erano restano punti di riferimento e soprattutto risorse significative e importanti poi magari quando discuteremo una mozione avremo anche modo di entrare nel merito di più delle cifre però contemporaneamente all'interno dell'ordine del giorno abbiamo sottolineato che questa legge di bilancio azzera sostanzialmente questi due fondi che non avremo più se non dei residui ma avremo le amministrazioni comunali almeno quelli della Lombardia avranno una misura per l'affitto quindi sostegno al mantenimento dell'alloggio e l'alloggio sul libero mercato con un importo che per il comune di Sesto San Giovanni è di 42.546 e la stessa delibera che è molto corposa proroga al 31 dicembre del proroga al 31 dicembre del 2024 il periodo di utilizzo dei residui dei due fondi in oggetto quindi sono avanzati dei soldi legati a quei residui che peraltro non sono nemmeno pochissimi questa non è una cosa che è avvenuta solo nel comune di Sesto San Giovanni in quella delibera estremamente corposa si vede come praticamente tutti i comuni hanno avanzato tantissimi soldi questo mi ha fatto molto interrogare perché da una parte abbiamo un bisogno significativo e ce l'abbiamo tutti non è che c'è la solo Sesto San Giovanni queste sono le condizioni economiche di difficoltà e di povertà da un certo punto di vista che stiamo attraversando da diversi anni che sono molto peggiorate sicuramente per la situazione del covid eccetera 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 dall'altra parte però quei fondi che sono stanziati non vengono utilizzati compiutamente nelle amministrazioni comunali mi ho fatto molto interrogare perché mi sono detta forse e questo chiaramente non è un limite di una singola amministrazione ma forse bisognerebbe anche cercare non solo di sbloccare questi fondi ma di capire come poterli utilizzare al meglio forse hanno dei vincoli che sono eccessivi o che sono stati eccessivi pur avendo come obiettivo quello di sostenere le difficoltà economiche di chi vive una situazione di morosità incolpevole o di chi non riesce a pagare l'affitto e da chiaramente un reddito estremamente basso e quindi ha la possibilità di accedere al sostegno quindi in merito al fatto che dei soldi ci sono che degli altri come dire sono presenti come residui chiediamo al sindaco e alla giunta di impegnarsi a stanziare un importo per andare a sopperire alla mancanza di questi due fondi che di fatto appunto sono stati azzerati a partire dal 2023 grazie grazie signora Pagani passo la parola al sindaco ringrazio la consigliera Pagani se posso faccio mio questo ordine del giorno con la solita raccomandazione qualora ci fossero disponibilità di bilancio più che volentieri proprio perché ha colto la criticità di una normativa anzi una disposizione di un bando regionale molto stringente all'origine che poi negli anni successivi man mano che si portano in avanzo tende ad andare incontro e a personalizzarlo più su quelle che sono le richieste degli uffici welfare dei singoli comuni e quindi non vengono quasi mai spesi sulla competenza ma vanno in avanzo e vengono spesi negli anni successivi sarebbe opportuno spenderli sulla competenza non appena ricevuti oggettivamente c'è una rigidità di requisiti che generano tutto questo meccanismo che si presenta un po' su tutti i comuni e che comunque all'occorrenza qualora vi siano degli equilibri di bilancio che lo consentano di poter intervenire direttamente aiutando chi si trova in una situazione di difficoltà grazie grazie a lei sindaco a questo punto avendo accettato l'ordine del giorno non verrà messo in votazione adesso in questo caso dichiaro chiusa intanto la discussione su questa proposta di delibera chiedo a sindaco o assessori se qualcuno vuole riempicare in merito alla discussione nel suo complesso su tutti e tre gli ordini del giorno dopo di che analizzeremo i due fatti i due fatti personali prima di passare alla dichiarazione di voto e alla votazione del bilancio ok possiamo procedere quindi a questo punto parto dalla consigliera Pini che prima ha chiesto la parola per fatto personale se mi può dire le motivazioni grazie consigliera Pini ora è la parola se la Pini non la sentiamo se la Pini non la sentiamo facciamo così passo intanto la parola al consigliere Foggetta che mi ha chiesto anche lui prego mi dà la motivazione si molto velocemente siccome nell'intervento del consigliere Vincelli si è lanciata la battuta provocatoria del io c'ero a quella passeggiata mentre non mi pare di averla vista consigliere Foggetta volevo solo dire che quella sera che era il 28 novembre in quel momento ero al pronto soccorso con un mio familiare che è la stessa ragione per cui la sera precedente non ero stato presente al consiglio comunale mi piacerebbe che prima di parlare tante volte oltre al microfono si attivasse anche il cervello beh utilizziamo parole comprendo atto però a questo punto prego consigliere Vincelli allora io ho fatto solo presente che lei non c'era il mio cervello è molto collegato lei parla parla continua a parlare io lo lascerò parlare ci mancherebbe altro e mi scuso guardi io mi scuso mi scuso no no io mi scuso però tenga lei collegato il cervello proviamo il collegamento con la consigliera Pini vi chiedo di tenere i toni moderati chiaro il contenuto per favore ordine in aula per favore per favore consigliere Pini mi sentite adesso? adesso si prego ok allora io ho trovato assolutamente bieco bieca la strumentalizzazione il portare all'attenzione dell'amministrazione è un qualcosa che è già in atto non solo per la presenza nostra la sera che c'è stata la passeggiata ma anche per quello che è avvenuto prima di quella passeggiata che è stato chiaramente riportato a tutti dagli organizzatori e anche dopo e ripeto prova ne è la collaborazione e l'albero che verrà installato venerdì quindi non confondiamoci e non vediamo di evitare di mettere in bocca cose che non sono state dette per bieco intendevo esclusivamente la strumentalizzazione che ne state facendo è questa la cosa bieca grazie basta ho finito grazie grazie consigliere Pini allora passiamo in questo caso alla dichiarazione di voto sulla delibera di cui di bilancio di cui appunto tre ricordo cinque minuti per ogni gruppo consigliare città in comune consigliera Pagani sì grazie presidente penso che sarò anche più breve dei cinque minuti allora partirei dalle da alcune considerazioni legate diciamo agli aspetti positivi che ho apprezzato sicuramente l'assunzione degli ordini del giorno quelli che ha assunto naturalmente da parte del da parte del sindaco ritengo che questo sia la testimonianza comunque di un impegno da parte dell'amministrazione comunale nello specifico ovviamente assunto dal primo cittadino e penso che questo sia importante perché non perché li abbiamo presentati noi ma perché importanti sono i temi che hanno a che fare con questi ordini del giorno ci sono altre cose che non sono riuscita a dire nel mio intervento nel quale mi sono dilungata su alcuni aspetti tralasciandone negli altri un'altra delle cose che ho apprezzato è che all'interno degli obiettivi del bilancio previsionale ci siano anche il tentativo di costruire una carta dei servizi di qualità dei servizi ecco io penso che questa sia una cosa molto importante noi l'avevamo sottolineato come spesso quando discutavamo servizi legati alla fondazione generiamo scusate non avevo specificato questo e che avevamo sottolineato che nella discussione che facevamo era molto quando affrontammo un consiglio comunale che era molto importante monitorare e costruire una misurazione degli standard dei servizi resi all'utenza cioè misurare la qualità e misurare l'efficacia il fatto che come dire questa questa necessità sia stata presa in carico dall'amministrazione comunale che si comprenda che la qualità non solo è misurabile ma deve essere misurata per poter essere certificata per poter anche essere migliorata credo che sia un passo avanti ulteriore nel tentativo di fornire appunto anche attraverso la fondazione dei servizi sempre più appunto efficaci ed efficienti per quanto riguarda i cittadini devo dire la verità non ho amato moltissimo se devo essere sincera la discussione che abbiamo fatto oggi sul bilancio previsionale io trovo che sia abbastanza originale il fatto che pochissimi consiglieri di maggioranza intervengono ma quando intervengono intervengono per rispondere dei fatti alle argomentazioni che vengono portate dai consiglieri di minoranza lo trovo abbastanza stupefacente per due motivi prima di tutto perché mi sembra abbastanza riduttivo rispetto al tema e secondo perché a mio avviso dovrebbe essere il contrario nel senso che è chiaro che quando esiste all'interno di un'amministrazione una maggioranza e una minoranza la maggioranza orgogliosamente non solo difende ma soprattutto racconta quello che è il lavoro della giunta che rappresenta e della parte che rappresenta invece a me sembra che in realtà questa cosa non avvenga mai e che si finisca soltanto per fare un ping pong di osservazioni che vengono fatte dai consiglieri di opposizione con a volte anche come dire dei passaggi poco felici quando si parla di accredine io lo trovo veramente ridicolo cioè la politica non è sentimentale la politica è idee confronto di idee confronto di valori confronto di spazi confronto di soluzioni quindi non è che noi accusiamo come è stato detto che voi non gestite no voi gestite come meglio credete dopodiché noi possiamo non essere d'accordo e in merito e chiudo rispetto a questo dichiarando un voto comunque contrario al bilancio previsionale che non è che esiste la rappresentanza politica è una rappresentanza delle parti noi rappresentiamo una parte importante di questa città una parte importante e se sommiamo il numero dei voti dei consiglieri comunali da questa parte sono significativi ma non perché noi vogliamo dire che abbiamo un tot di voti ma perché noi rappresentiamo un pezzo della città quindi questo merita rispetto noi non insegniamo a nessuno ci confrontiamo quando non siamo d'accordo diciamo le cose io parlo per il mio gruppo sulle quali non siamo d'accordo e le cose sulle quali invece siamo d'accordo o che apprezziamo se c'è un miglioramento finiamola di confrontarci come se avessimo cinque anni proviamo ad aumentare la qualità del dibattito di questo consiglio comunale grazie alleanza verdi sinistra consigliere Foggetta sarò molto veloce io vorrei ricordare oltre a quanto messo dall'amministrazione comunale i 31 milioni di euro tra PNRR e Piano Lombardia i 75 milioni di opere a scomputo legate a città delle ricerche della salute con cifre di questo tipo era l'occasione doveva essere l'occasione per un bilancio di progetto per il progetto di una nuova città quello che vediamo invece è un bilancio di gestione come diceva poco fa la consigliera Pagani in cui si gestisce qualcosa in un modo che noi non condividiamo ma al di là del quanto possiamo non possiamo condividere noi resta un bilancio per quanto ci riguarda di gestione si poteva usare quest'occasione tutte queste entrate queste grosse entrate che probabilmente in futuro speriamo visto la ragione per cui è arrivato anche sono arrivati gli investimenti del PNRR non ci saranno questa poteva essere l'occasione per fare qualcosa di tanto di più per la città ci sembra che questa occasione non sia stata accolta il nostro voto sarà contrario Lega Salvini Premier consigliere Appini Passo la parola al consigliere Romano Grazie Presidente come gruppo Lega noi siamo favorevoli Grazie Forza Italia consigliere Cupido Prego consigliere Valsecchi la dichiarazione Sì sì la dichiarazione la fa il consigliere Valsecchi che non avevo preso nota Prego Sire Valsecchi Grazie Presidente Allora il gruppo di Forza Italia non è particolarmente coinvolto in questi diattribui che frequentemente sono presenti in molti interventi che stiamo ascoltando qui in aula quali le lamentele sulle accuse che tutte le mancanze sono attribuibili a gestioni precedenti e contemporaneamente anche a sottolineare che con la stessa frequenza che tutto ciò di buono che avviene in città arriva da molto 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 lontano per cui soddisfatti invece per la concretezza della redazione di progetti di sviluppo della nostra città il nostro voto sarà favolevole Grazie Grazie Partito Democratico Consigliere Cagliani Grazie Signor Presidente è la mia serata questa sera dovete portare pazienza però vado via vado via veloce almeno nella dichiarazione di voto guardate io dai vostri interventi non abbiatevene a male ma torno a ripetere devo dire la mia senza offendere nessuno certo attacco il sindaco attacco la vostra amministrazione ma cerco di non offendere mai nessuno quando intervengo è la mia idea cerco di rappresentare il mio mondo però ecco dai vostri interventi io mi sono confermato in una convinzione soprattutto negli inizi sono sempre gli stessi vostri o del sindaco nel 2017 nel 2017 ci avete lasciato un disastro un disastro lo citava il consigliere Vincelli e c'è ok l'abbiamo capita abbiamo questa responsabilità ma se voi continuate a guidare la macchina guardando nello specchietto retrovisore andate a sbattere e siccome su quella macchina voi avete la responsabilità della guida ma mandate a sbattere anche me che sono un cittadino di sesto allora torno a ripetere l'ho già detto una volta io da questo bilancio non riesco a leggere qual è il vostro progetto per la città del futuro non riesco a leggerlo a capirlo ha ragione il consigliere Pogliaghi è un bilancio solido è un bilancio sano e tanta sostanza caspita ma questa è la prima parte ma da qui uno deve partire e immaginare avere una visione che parli alla città di domani ai nipoti ai figli allora se non l'avete se non l'avete torno a ripetere credete convintamente nel progetto della città della ricerca e della salute credetemi credete in quello e farete la vostra fortuna perché è veramente quello il polo intorno a cui la città potrebbe ritornare a correre perché lì c'era bisogno di una funzione di eccellenza per muovere la città e quella potrebbe essere l'occasione credete in quello convintamente perché so che comunque state operando perché il progetto vada in porto ci mancherebbe ma credeteci convintamente e io vi vengo dietro come si dice grazie grazie a lei gruppo misto consigliere Vincelli grazie grazie della precisazione consigliere Vincelli gruppo misto grazie presidente si non avevamo capito che votevate contro questo bilancio di previsione nonostante il sindaco ha fatto suo alcuni punti dell'ordine del giorno forse forse magari è astenervi era la cosa migliore è vero mancanza di onestà intellettuale sì stasera l'ho l'ho vista effettivamente l'ho incontrata l'incontro spesse volte qui in consiglio comunale purtroppo invito e ricordo alle minoranze che voi avete una commissione di controllo presidete questa questa commissione di controllo quindi secondo me inventarvi commissioni ad hoc non servono basterebbe solo la commissione di controllo e portare chiaramente lì i punti all'ordine del giorno ecco lì possono andare bene alcuni di questi punti dell'ordine del giorno vorrei ricordare che quando è stato deciso la città della salute c'era un presidente che si chiamava formigoni Roberto formigoni quindi attraverso la regione lombardia si è deciso di scegliere sesto invece chiaramente di milano e da lì effettivamente perché c'era anche un accordo probabilmente a livello governativo a roma dove chiaramente si poteva in qualche modo effettivamente collaborare quindi diciamo che le cose sono state fatte e volute da regione lombardia quindi ha deciso regione lombardia non ha deciso sesto san giovanni e quindi da allora voi è passato maroni eccetera siete rimasti fermi quindi su questo effettivamente è giusto avere intelligenza intellettuale onesta intellettuale sulla questione che qui voi vedete un bilancio di previsione ricordando poc'anzi quanto è stato detto dalle minoranze che noi siamo partiti da un disavanzo e da un predissesto la questione chiaramente del predissesto è una cosa grave in un comune cioè questo è importante il predissesto è stato chiuso nel 2021 dicembre 2021 quindi questo effettivamente è il secondo bilancio di previsione nel 2000 chiaramente 23 per il 2024 e dire scusate che è solo un conteggio di 2 più 2 fa 4 4 meno 4 fa 0 è abbastanza riduttivo da parte vostra io comprendo che voi di bilancio ne capiate effettivamente molto molto poco pochissimo quasi inesistente questo l'abbiamo riscontrato in quello che sono anche le differenze tra un ordine del giorno e un emendamento avreste portato avanti degli emendamenti invece degli ordini del giorno comunque detto questo noi ci troviamo noi ci troviamo molto soddisfatti su questa su questo indirizzo che è stato dato su questo bilancio di previsione dove ci saranno tantissimi credenti investimenti dove comunque una visione del futuro di Sesto noi lo abbiamo e diciamo che se voi in 30 anni siete stati credenti fermi noi chiaramente in 6 barra 6 e mezzo abbiamo chiaramente portato avanti quello che doveva essere portato avanti quello che si aspettava chiaramente la città di Sesto San Giovanni i cittadini di Sesto San Giovanni noi siamo favori grazie consigliere Gatti l'ha invito per favore all'ordine l'equivalente di mettere un manifesto abbiamo siamo Sesto consigliere Molteni grazie presidente allora non ho mai visto che hanno detto che tutti citiamo sempre il debito eccetera non mi avete mai sentito dire o ricordare quanto quanto la storia ha già scritto per cui non c'era bisogno che tu ti ricordassi il debito che abbiamo trovato eccetera eccetera per cui la generalizzazione non la faccio mia seconda cosa visto che viene citata sempre adesso qui tutto gira attorno al fulcro della città della salute allora io posso dire che questa amministrazione sta facendo tutto quanto a meno per quello che mi sembra tutto quanto è possibile tutto quanto è nella sua forza farlo sono altrettanto convinto visto che lavoro nella sanità da 35 anni e la città della salute doveva nascere quel del sacco e ho ancora tutti i progetti perché lì ero e lì sono tuttora anche se adesso bollate sono convinto che gli equilibri e le diciamo decisioni vadano purtroppo un po' oltre a quanto il comune di Sesto possa fare o potesse magari fare anche in passato e la storia un po' lo insegna comunque questo per una sottolineatura sulla città della salute l'abbiamo visto comunque in sintesi il nostro voto invece sul bilancio sarà non può che essere favorevole se no non sarei qui a fare l'abbiamo costruito l'abbiamo fatto grazie grazie a lei fratelli d'Italia consigliere Turolla grazie presidente evito polemiche così andiamo tutti a casa e dichiaro voto favorevole per favore di Stefano sindaco consigliere Pogliari provi appena secondo provi a richiedermi una parola provi adesso c'è altro procediamo grazie a tutti è andata tanto mi bastano i quattro minuti rimanenti assolutamente grazie presidente ci tengo a riportare solo un attimo il tema sul contenuto della delibera di bilancio questo è stato davvero un bilancio di programmazione non un bilancio di progetto come è stato detto pochi minuti fa l'amministrazione mette circa 19 milioni verso 38 circa di PNRR circa 5 milioni di regione Lombardia più qualcosina pure dalla SST facendo da amplificatore a investimenti di ampio respiro questa è la visione pur nella buona volontà di alcune emozioni queste sono fuori posto alcune di esse e di fatto hanno bruciato una possibilità di lavoro portandola in quest'area la consigliare cioè portare alcune emozioni qua dentro ha voluto dire necessariamente strumentalizzarle cioè portarle nel dibattito politico non voglio fare la morale su questa cosa però è un peccato perché magari il contenuto merita in certi casi comunque se la visione è aumentare la delizia convenzionata proprio non ci siamo come avete visto da tutti i progetti illustrati proprio la visione è completamente opposta per uno sviluppo per la città per tutti i cittadini sostenendo i servizi e riqualificando quello che era effettivamente riuso alcune vostre parole disastrato il nostro voto è favorevole grazie grazie a lei a questo punto procediamo con la votazione della delibera di cui ho appunto 3 quindi approvazione del bilancio tutti con votazione elettronica preparo la votazione potete procedere se vuole dichiarare anche il suo voto se le foggetta verbalmente prego contrario ok grazie a questo punto abbiamo 23 voti validi di cui 16 favorevoli 7 contrari la delibera viene approvata procediamo con l'immediata eseguibilità riapro la votazione se le foggetta in questo caso anche lei lo pronuncerà ancora verbalmente abbiamo 16 voti favorevoli se le foggetta lei no non ha preso no no siamo 22 su 22 mi manca il suo voto no non ho chiuso però se lo dichiara anche verbalmente prego si le foggetta dichiaro il mio voto contrario a questo punto abbiamo 16 voti favorevoli 7 contrari la delibera richiaro la delibera immediatamente esecutiva ricordo il consiglio comunale di domani sera 19 dicembre ore 20 saluto e ringrazio tutti saluto il pubblico da casa è presente saluto anche la polizia locale le forze dell'ordine ore mezzanotte 36 dichiaro chiuso il consiglio comunale grazie